Grazie. Grazie. Bene, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 della Scuola Normale Superiore. Ringrazio tutte le autorità oggi intervenute, il Ministro Bianchi, il Presidente Gianni, il Sindaco Conti, il Prefetto D'Alessandro, signore Assessore e signori Assessori, magnifici rettrici, magnifici rettori. Saluto inoltre tutte le autorità civili militari qui intervenute, le colleghe e i colleghi del Corpo Docente, il personale tecnico-amministrativo, le allieve e gli allievi. Inizieremo questa cerimonia con alcuni indirizzi di saluto e quindi con piacere cedo la parola al Presidente della Regione, Eugenio Gianni. Grazie. Un saluto di cuore a tutte le autorità accademiche, alle autorità civili, militari, al Ministro Bianchi che illustra con la sua presenza quello che è l'inaugurazione dell'anno accademico nella università che possiamo dire più prestigiosa della Toscana, nel senso di quello che significa l'autorevolezza di una scuola normale che proprio più di 200 anni fa, era il 18 di ottobre del 1810, in piena età napoleonica, fu costituita con decreto. Naturalmente età napoleonica mi veniva anche di fare una battuta, non è che fosse casuale perché il fratello maggiore di Napoleone aveva fatto l'università proprio a Pisa e devo dire che il fatto che dei buona parte che cambiano il loro cognome quando si recarono a Iaccio e quindi in Corsica in buona parte, dei buona parte nobile famiglia di Samignato, cinque degli otto fratelli abbiano deciso poi di risiedere e morire in Toscana, è il segno di quanto in quel rapporto della famiglia buona parte vi era di ancestrale nella nostra Toscana. No, in realtà questa è davvero quella scuola normale che poi dall'epoca granducale dopo qualche anno fu ricostituita nella versione con cui Lorena chiaramente volevano istruire quello che era la scuola d'eccellenza da un punto di vista dell'istruzione superiore e come poi si è sempre inserita con il proprio statuto di autonomia e quindi di eccellenza data anche dal profilo di originalità, di unicità che ciò rappresenta nell'ordinamento della Repubblica italiana. Dopo unità fino ai giorni nostri la scuola normale di Pisa rappresenta veramente un vanto per l'intera Toscana e il fatto che il Palazzo della Caravana nella Piazza dei Cavalieri, il luogo che rappresentava in qualche modo il centro di una Pisa che nel contesto del Gran Ducato di Toscana svolgeva una funzione unica di apertura verso l'esterno, di concentrazione degli studi e di quello che in qualche modo a livello universitario potesse offrire porta ancora oggi a Pisa ad avere la scuola normale ma anche l'università statale ma anche Sant'Anna e quindi è il laboratorio e l'incubatore più forte di studi universitari post universitari di dimensione di prospettiva e la ricerca. Il fatto consentitemi che oggi in Toscana io abbia dovuto andare un po' forte con la macchina per riuscire a essere presente a Siena dove si inaugurava l'anno accademico alla presenza del presidente Mattarella e a Pisa dove il ministro Bianchi ci fa l'onore di essere presente per l'inaugurazione dell'anno accademico della scuola normale in qualche modo ci dà il segno di un'attenzione verso il sistema di studi universitari e superiori della Toscana di cui al ministro dico veramente grazie. Per quello che riguarda ciò che questo comporta come inaugurazione dell'anno accademico verso il corpo docente, verso gli studenti, il fatto di uscire o quantomeno di trovare una situazione che ci consente ben altro modo di studiare, di vivere le lezioni molto più in presenza dopo quello che ha significato l'emergenza sanitaria nell'anno appena passato e ben augurante con la consapevolezza che il biglietto distintivo dell'immagine della Toscana nel mondo è proprio la cultura, l'università e la formazione, la ricerca scientifica, lo dico nella città di Galileo e questo devo dire che ci dà il senso profondo e compiuto di come questa inaugurazione è qualcosa che coinvolge certo questo Ateneo ma coinvolge la città di Pisa e è un momento qualificante per tutta la Toscana. Grazie davvero di cuore. Interviene adesso il sindaco di Pisa, Michele Conti. Gentile professor Ambrosio, signor ministro, autorità presenti, con piacere porto il saluto della città di Pisa, un saluto di grande cordialità al corcopo accademico della Scuola Normale Superiore, al personale amministrativo e tecnico e agli studenti, alle studentesse, ai docenti, agli ospiti accademici arrivati a Pisa da tutta Italia. L'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Normale Superiore è sempre stato un momento importante per la nostra città che si pregia di essere riconosciuta in ambito internazionale per la presenza di università e centri di ricerca scientifica e di alta formazione che sono istituzioni strategiche per lo sviluppo del Paese e in particolare per il loro territorio di riferimento. Pisa possiede una grande ricchezza ospitando la Scuola Normale e le altre prestigiose istituzioni universitarie ed è proprio grazie a questa ricchezza che si vede riconosciuto un importante risultato in termini di rango urbano che va oltre i propri confini comunali e dimensioni di media città. È di stamani una graduatoria d'Italia oggi che la vede al venticinquesimo posto come qualità della vita per l'anno 2021 guadagnando ben 11 posizioni e questo è stato possibile grazie al fatto che tra tutti gli ambiti che sono stati visionati e valutati istruzione e formazione sono una dimensione che è importante quindi è grazie a istituzioni come questa che consentono alla città di poterle guadagnare ben 11 posizioni. Pisa si configura come vera e propria cittadina universitaria che fa dell'offerta dell'istruzione a elevata specializzazione uno dei principali punti di forza della sua attrattività. Il nostro impegno è quello di valorizzare questa caratteristica puntandolo sulla viabilità della città in termini di cultura, storia e natura che si intrecciano e rappresentano una dimensione ideale per le attività di studio, di ricerca e da qui dialogano col mondo intero. Ma dobbiamo impergnarci per fare molto di più. La grande sfida che il governo, le istituzioni, gli enti locali hanno col PNRR è per senz'altro per Pisa un ruolo importante da giocare proprio per le eccellenze dell'alta formazione che proprio in questa città e in strutture e eccellenze come quella della scuola normale vengono formate. La nostra amministrazione poi ha cercato per quanto riguarda la struttura la parte che riguarda l'istruzione di fare quello che ha potuto in questi tre anni dando mandato ed investendo quasi 8 milioni di euro negli edifici scolastici e contando nei prossimi mesi di poter far sì che arrivino bandi ministeriali che daranno un grande impulso di rinnovamento del sistema scolastico. In un grande piano di ripartenza per il nostro paese la scuola e la formazione devono avere un ruolo primario e in questo credo che sia fondamentale caro ministro che l'istruzione venga messa al primo posto visto che negli ultimi anni purtroppo per una serie di meccanismi era stata messa i soldi non bastano mai né agli enti locali né a livello nazionale ma era stata messa un po' in disparte. Ecco io mi auguro che con queste grandi risorse e con la grande sfida del PNRR si possa fare di più nei prossimi anni. Buon lavoro e buon anno accademico a tutti. Ascoltiamo adesso la prolusione del direttore della scuola normale superiore Luigi Ambrosio. Bene, come ci ricordava il presidente Gianni lo scorso 18 ottobre ricorreva il 211esimo anno di fondazione della scuola, l'anniversario di fondazione della scuola. Napoleone firmò il decreto imperiale che dovreste vedere tra un attimo che imponeva distruire a Pisa un pensionato accademico che sull'esempio dell'Ecole Normale Superiore di Parigi avesse la finalità di formare i futuri insegnanti delle scuole italiane. L'atto fondativo napoleonico si riferisce quindi all'innestarsi della scuola normale nel sistema dell'istruzione nazionale. Ovviamente alla funzione originaria di scuola delle norme, ovvero dei principi fondamentali dell'educazione scolastica e civica che dovevano essere trasmessi agli insegnanti, si sono sovrapposte molto presto ulteriori potenzialità e la normale è stata, ed è per usare le parole di un direttore del passato, Luigi Russo, un vivaio di studiosi eminenti nel campo delle lettere e delle scienze, cui di recente, dal 2014, abbiamo aggiunto anche le scienze sociali. Ma poiché il destino può mutare la natura mai, la normale ha tutt'oggi uno sguardo attento, direi molto partecipe, al sistema scolastico nazionale, con interazioni molteplici cui vorrei dedicare la prima parte della mia prolusione per sottoporle all'attenzione del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che ringrazio ancora per la sua presenza. E' anche nostra intenzione, nella fase di revisione dello statuto che stiamo vivendo, dare maggiore enfasi e visibilità a questa parte della nostra missione, nella consapevolezza che siamo l'unica scuola superiore a ordinamento speciale universitaria che, per le materie che copre, ha una proiezione quasi perfetta sulle materie degli istituti scolastici superiori. Un tradizionale momento di collaborazione con le scuole sono i corsi di orientamento universitario, che radunano ogni anno, anche se nel 2000-2021 quasi tutti i corsi si sono svolti online, circa 500 tra i migliori studenti appena promossi in quinta superiore in alcune città e località della penisola. La foto che vedete si riferisce a uno dei corsi di orientamento l'anno scorso, organizzato con la Scuola Superiore Meridionale di Napoli, a Napoli. Quindi corsi organizzati da Pisa a Roma, da Napoli a San Miniato, dove tra l'altro dopo la stassi pandemica intendiamo riportare varie attività, in passato anche in Calabria, Camigliatello Siliano, Rovereto, Cortona, Colle Valdelsa. Durante una settimana si svolgono conferenze di livello universitario sulle più svariate discipline, molte delle quali non sono contemplate nei nostri programmi di studio. Il nostro orientamento infatti non indirizza necessariamente questi giovani alla carriera universitaria normale, ha una natura come dire altruistica in un rapporto di 3 a 1 tra docenti interni e docenti esterni. Lo scopo quindi, ripeto, non è autopromozionale ma quello di offrire una panoramica della migliore offerta universitaria italiana e infatti solo una piccola percentuale, piccola ma direi per noi significativa, dei partecipanti a questi corsi di orientamento, quest'anno è stato il 17%, poi decide di tentare il concorso di ammissione. Ecco qui vedete una foto presa proprio a San Miniato, dove poi ritorneremo anche su questo argomento, vedete che a livello dei corsi di orientamento il bilanciamento di genere è pressoché perfetto. Lo spirito insomma è quello di non disperdere il talento con scelte sbagliate, un servizio al Paese che negli ultimi 41 anni ha riguardato circa 20.000 partecipanti e il resto possibile, a questo vorrei sottolinearlo, dalla stretta collaborazione con i dirigenti delle scuole. Sono loro a segnalarci tra gli allievi dei rispettivi istituti, quelli più meritevoli di essere ammessi ai corsi e confermiamo il nostro impegno a realizzare una nuova e più ampia, grazie anche a nuovi fondi ministeriali, stagione di orientamento, coinvolgendo questa volta maggiormente sia l'Accademia dei Lincei ma anche le altre scuole superiori universitarie. Anche i corsi di aggiornamento per gli insegnanti degli istituti scolastici che svolgiamo in collaborazione proprio con l'Accademia dei Lincei sono realizzati per adempiere un servizio alle scuole. Si tratta di lezioni rivolte al corpo docente, ecco questa è un'immagine presa invece per il corso organizzato all'Accademia dei Lincei, si tratta di lezioni rivolte al corpo docente degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado, che i nostri professori tengono su temi che riteniamo stimolanti e oggetto di alta divulgazione in ambiti come la matematica, l'italiano, la letteratura italiana, la biologia, la storia dell'arte, la storia antica, la chimica. In sette anni abbiamo organizzato oltre i 40 corsi per un totale di circa 5.000 insegnanti formati e poco meno di 300 lezioni. Tutto questo materiale è disponibile online sul canale YouTube della Scuola Normale. Pur con numeri così consistenti, l'attività è stata obbligatoriamente limitata finora alla sola Toscana. Le attività didattiche fino al 2019 infatti si sono svolte in presenza prima della pandemia, vedete una lezione proprio che ha luogo nell'aula dove ora ci troviamo. Comunque lavoreremo per ampliare l'utenza coinvolta, i temi trattati, includendovi ad esempio quelli delle scienze sociali, con il contributo della classe di Firenze, e la quantità di argomenti delle lezioni, estendendo i corsi alla modalità blended e condividendo, ripeto, da capo questa esperienza anche con le altre scuole superiori universitarie. Devo dire che la più recente iniziativa in favore dell'universo scolastico, quella di cui forse andiamo più orgogliosi, è la normale a scuola. Questa iniziativa è nata, direi quasi per caso, nell'aprile 2020, durante il primo lockdown, il primo duro lockdown, quando le nostre professoresse e i nostri professori si sono offerti di tenere lezioni telematiche alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'enorme riscontro in termini di richieste di partecipazione ci ha fortemente sorpreso. Ecco, qui vedete una cartina delle scuole che sono state coinvolte in questa attività, la normale a scuola, quindi praticamente abbiamo coperto tutto il territorio nazionale e questo successo, che ci ha dimostrato quanta fame appunto di divulgazione alta anche c'è nel paese e nelle scuole, ci ha spinto a ripetere l'esperienza anche l'anno successivo. Quindi abbiamo tenuto più di 400 lezioni tra 2020 e 2021, cui mediamente a ogni lezione assistivano circa 200 studenti. Abbiamo raggiunto, quindi coinvolgendo scuole ad Atene, Madrid, Bruxelles, Istanbul, Mosca, abbiamo raggiunto più di 100.000 studenti. Certo un numero, magari una frazione ancora piccola magari dell'intero corpo studentesco, ma direi già abbastanza significativa. appunto solo quest'anno appunto 47 tra docenti, ricercatori e assegnisti hanno contribuito alle lezioni che non rientrano strettamente nei nostri doveri accademici, ma costituiscono appunto per migliaia di scolaresche l'opportunità di approfondire argomenti già visti, ma anche di entrare in contatto con temi non presenti nei loro programmi di studio. Quindi anche nel 2022 riprenderemo questa attività che direi ormai è entrata stabilmente tra quella della terza missione. Ecco qui mi piace proiettare, abbiamo ricevuto bellissime lettere di ringraziamento, ne ho scelta una diciamo relativa a una professoressa che ringraziava per un corso di storia tenuto dal professor Benigno. Lettere come queste naturalmente ci hanno incoraggiato a continuare il percorso, che è una testimonianza insomma del public engagement da parte della nostra comunità. Ecco un altro esempio che mi piace citare è un progetto sperimentale nato nel 2017 di collaborazione tra la Scuola Normale e l'Istituto Professionale Pacinotti di Pontedera. È qui presente oggi la dirigente scolastica Maria Giovanna Missaggia che ha anche incontrato il ministro, nostra ex allieva della classe di lettere. L'intento originario era quello di fornire un ponte, stabilire un ponte tra due mondi e due esperienze apparentemente agli antipodi. Da una parte studenti e studentesse a forte rischio di dispersione scolastica, dall'altra studenti e studentesse che si trovavano già a un alto livello nella carriera scolastica e universitaria. Ci siamo ressi conto che un dialogo tra questi due mondi poteva esistere e che di questo dialogo poteva essere strumento potente la letteratura. Per condurre questo esperimento è stata scelta come argomento di lettura non casualmente la Commedia di Dante e ci ha guidato l'esempio di una nostra grande ex allieva, che qui vorrei ricordare anche alla presenza del ministro Carla Melazzini, ispiratrice e fondatrice dei maestri di strada. Sono nati così grazie all'impegno di alcuni nostri allievi, della dirigente e degli insegnanti del Pacinotti, i cosiddetti Cerchioni di Dante, un nome che proviene dal felice errore con cui uno studente aveva definito i cerchi appunto dell'inferno dantesco. Il progetto ha ruotato intorno al valore della lettura, simbolico, formativo, perché la gran parte di questi studenti e studentesse coinvolte avevano in realtà una scarsissima familiarità con la lettura. E quindi la lettura ad alta voce è diventato il terreno di prova e la medicina per guarire da una sfiducia cronica. I normalisti e gli insegnanti hanno guidato gli studenti ad ascoltare la propria voce, quella degli altri, a farsi coraggio nella lettura, a concentrarsi sul significato delle parole, a capire Dante se stessi, mediante Dante. E infatti poi molti di questi studenti coinvolti in questa attività hanno appunto presentato alla maturità come progetto finale proprio i Cerchioni di Dante. E questa attività si è chiusa con una grande lettura collettiva della commedia al Campo Santo monumentale. Le foto appunto si riferiscono a questo che ha coinvolto me, tantissimi volontari e questi studenti. Ma tanti nostri allievi sono impegnati nella dissemeniazione della cultura e della scienza. Mi piace di ricordare oggi che alcuni di loro hanno ottenuto la cosiddetta licenza TED, Technology and Entertainment and Design, un programma internazionale di eventi dedicato ai temi dell'innovazione tecnologica e sociale, che gli ha consentito di organizzare il primo evento TED a Pisa e so che è in preparazione un altro, almeno un altro l'anno prossimo. Questo in collaborazione con la Scuola Sant'Anna, l'Università di Pisa e tante appunto aziende tecnologiche non del territorio. Questo direi è solo uno degli esempi, altri ricorreranno in seguito nella mia prolusione, discussione della molteplicità di collaborazioni che la Scuola, pur con i suoi piccoli numeri, è in grado di sviluppare a vari livelli, Pisano, Fiorentino, regionale, nazionale. Continueremo in quest'anno accademico a supportare gli insegnanti, a far sì che le ragazze e i ragazzi possano conoscere il più ampio spettro di argomenti di studio per scegliere le strade del futuro al meglio delle proprie possibilità e aspirazioni. Credo che tutte queste iniziative rendano l'idea dell'investimento che stiamo facendo nella crescita delle scuole, perché è in esse che si può accendere la scintilla della passione per lo studio e per la ricerca e sappiamo bene che è bene che questa scintilla si accenda prima possibile. Passione che ovviamente caratterizza la carriera universitaria dei nostri allievi, senza la quale difficilmente, e qui lo dico veramente da ex allievo, sarebbe difficile far fronte ai pressanti impegni accademici cui devono adempiere. Ecco, sarebbe un atto lungimirante se lo Stato riconoscesse nel curriculum dei normalisti, ma non solo, la possibilità di appreviare percorsi verso la pubblica amministrazione, ma anche verso l'insegnamento, per offrire alla scuola italiana insegnanti di qualità e recuperare in parte la funzione originaria della normale come scuola degli educatori. In questa direzione, grazie agli sforzi congiunti miei e della rettrice Nuti, che saluto, qualcosa è già stato fatto. Abbiamo ottenuto l'equipollenza del nostro diploma di licenza con un master di secondo livello, ma certamente secondo me si potrebbe fare molto di più nell'ottica di una migliore valorizzazione dell'investimento del Paese sulle nostre scuole. Mi sembra che sia sempre più importante nella nostra società offrire a ragazze e ragazzi stimoli culturali e scientifici, in modo che abbiano progetti, ambizioni, ed è sempre di orgoglio constatare come la normale rappresenti ancora un punto di riferimento nazionale e internazionale per centinaia di loro. Lo vediamo ogni anno durante i concorsi di ammissione al corso ordinario, al corso di perfezionamento. Quest'anno, per il corso ordinario, tutte e venti le regioni d'Italia sono rappresentate nel corpo studentesco, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. E per quel che riguarda il dottorato, ecco vedete qui una cartina, sono presenti i dottorati da Paesi lontanissimi, dal Cile al Giappone, dal Canada all'Iran, dalla Cina agli Stati Uniti. Ne approfitto per rivolgere a tutti i 295 allievi del corso ordinario i miei auguri per il nuovo anno accademico, in particolare i 70 selezionati quest'anno, così come saluto i 303 studenti del corso dottorale e i 79 selezionati quest'anno. Ringrazio per il difficile lavoro svolto le commissioni d'esame e gli uffici dell'amministrazione che hanno lavorato a supporto di uno dei più delicati compiti della nostra istituzione, come dico sempre, il momento più importante nella vita della nostra scuola e vale a dire la selezione delle nuove generazioni. Ricordo che la scuola normale garantisce per statuto servizi dedicati e corsi aggiuntivi ai suoi allievi, che sono iscritti anche alle università di Pisa e Firenze, perché capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E anche grazie al supporto dell'intera macchina amministrativa che negli ultimi mesi si avvale di un nuovo segretario generale, il dottore Enrico Periti, che la nostra scuola può adempiere a questo dettame costitazionale e vorrei da subito ringraziare tutto il personale tecnico-amministrativo per la sua professionalità, dedizione verso la scuola, come dire, qualità che si rivelano ancora più fondamentali in questi difficili messi di pandemia. Ringrazio anche, facendo un po' riferimento alla pandemia, la Fondazione Monasterio, con cui abbiamo recentemente rinnovato una convenzione per i consigli e il costante supporto che abbiamo ricevuto proprio per una gestione migliore possibile della pandemia. La comunità dei docenti si prenderà cura con la consueta attenzione delle nuove leve, rinnovando quel patto di mutuo scambio che dà sempre il vero valore aggiunto della normale. A questo proposito abbiamo proceduto in quest'anno solare ad ampliare l'offerta formativa delle tre classi accademiche con ulteriori chiamate dall'esterno e progressioni di carriera. Abbiamo quattro nuovi professori ordinari e saluto a Fosca Giannotti, con la quale la scuola, venendo incontro anche a tante istanze dei nostri allievi, si apre finalmente verso l'informatica, Tommaso Pizzorusso, professore di fisiologia, Alessandro Schiesaro, professore di lingua e letteratura latina, Hans Jortrens, professore di sociologia dei processi culturali comunicativi. Anche quest'ultima cattedra è attiva per la prima volta alla scuola e penso che si possa felicemente integrare con le attività fortemente interdisciplinari dell'Istituto Ciampi a Firenze, coordinate da Mario Piant. Hanno preso servizio nell'anno, lo faranno il primo gennaio, vari nuovi professori associati, Gianfranco Adornato per archeologia classica, Federica Cengerle per storia medievale, Federico Cremisi per fisiologia, Elisa Donzelli per letteratura italiana contemporanea, Michael Joseph Morello per fisica sperimentale, Fabrizio Pedisano per storia romana, Andrea Torre per letteratura italiana, Enrico Trincherini, fisica teorica. Sono convinto che le tre classi accademiche, la classe di scienze con il preside Andrea Ferrara nel suo secondo mandato, la classe di lettere e filosofia con il nuovo preside Stefano Carrai, la classe di scienze politico-sociali con il nuovo preside Guglielmo Meardi trarranno nuova forza e impulso da questi docenti. In questa occasione vorrei anche rivolgere un affettoso saluto ai due presidi uscenti, Donatella della Porta, ora appunto in meritato anno sabbatico, e Giampiero Rosati che ha terminato, ma solo direi sul piano formale, il suo periodo di servizio alla scuola. La guida della scuola normale, poi condivisa da tante persone e molteplici organi, vorrei in particolare salutare chi mi aiuterà a compiere scelte non sempre facili. Il vice direttore Mario Piazza, i prorettori e i delegati Lorenzo Bartalesi, Chiara Cappelli, Ilaria Pavan, Augusto Sagnotti, Angelo Vistoli. Saluto anche i rappresentanti di tutte le componenti nei vari organi di governo e oltre al segretario generale il dottor, il nostro dirigente, il dottor Daniele Altamora. E grazie a tutti loro che saremo in grado di affrontare le molteplici sfide che ci attendono. Anche quest'anno valuteremo lo stato di salute delle nostre strutture accademiche non affidandoci esclusivamente ai famosi e abusati ranking, anche se in questo senso non va taciuto che nelle classifiche di settore internazionale che adottano parametri intensivi, anche parametri intensivi e non solo estensivi, quindi più attenti alle dimensioni degli Atenei, la normale risulta sempre prima in Italia, tra le prime al mondo. Parlo delle discipline scientifiche, di quelle umanistiche, di quelle delle scienze sociali e ad esempio per il Times Higher Education o per Round University Ranking. Ma noi, come dicevo, non diamo un eccessivo peso a questi indicatori, tendiamo a valutare la qualità soprattutto nelle carriere dei normalisti, nel contributo che i professori e i ricercatori della nostra scuola danno alla comunità scientifica, nei riconoscimenti nazionali e internazionali che ne conseguono. Cito solo tre casi in questo anno 2021. Per la classe di scienze, l'esperimento scientifico di osservazione delle prime galassie formatesi dopo il primo Big Bang, con cui il gruppo di cosmologia guidato da Andrea Ferrara è stato selezionato dalla NASA, in vista, ecco qui avete visto l'immagine del telescopio spaziale James Webb, che sta per essere lanciato tra pochi giorni. E qui vedete appunto il gruppo di lavoro di cosmologia coordinato da Andrea Ferrara. Per la classe di lettere e filosofia, il programma Comast, promosso e cofinanziato dalla regione toscana, con la quale la scuola normale, coordinato da Francesco Cagliotti, con la quale la scuola normale ha ottenuto il cofinanziamento di molti assegni di ricerca in settori interdisciplinari tra scienze e lettere. Per le scienze politico-sociali, mi piace ricordare lo studio di Manuela Moschella sul Recovery Fund pubblicato dal Parlamento europeo. Vorrei però che questi riconoscimenti non venissero visti come l'autocelebrazione di una presupposta eccellenza. E mi soffermo su questo punto anche perché è toccato in un intervento di alcune lieve della classe di lettere durante l'ultima cerimonia di consegna dei diplomi. Nel contesto di una giusta denuncia degli eccessi cui può portare questa retorica e delle degenerazioni derivanti dall'uso di strumenti meramente quantitativi nella valutazione della ricerca. Queste critiche però non devono portarci a disconoscere certi valori, solo a bilanciarli meglio. L'ho già detto in luglio e qui vorrei ripeterlo. Così come avviene in campo sportivo, vorrei invitare tutti a riconoscere il giusto valore delle selezioni basate sul merito, a guardare con orgoglio ai tanti riconoscimenti ottenuti in campo nazionale e internazionale dai nostri allievi, al grande contributo sul piano della formazione e della ricerca e anche su quello dell'immagine che apportano al Paese. Un'altra questione è toccata in quella lettera che certo non ci lascia indifferenti, che non va occultata e che personalmente sento come una delle più pressanti nel mio mandato di direttore, è quella di un maggiore equilibrio di genere all'interno dei vari segmenti della nostra comunità. Credo che non ci siano ricette miracolose e reputo controproducente qualsiasi scorciatoia, particolarmente direi per il reclutamento a livello del corso ordinario, ma questa considerazione non ci deve simere dal farci maggiormente carico di questa problematica in un contesto in cui in certi settori vi è già un cambio di indirizzo che porterà al superamento del gap di genere. Sicuramente bisogna quanto più possibile agire a monte, ovvero incentivare la presenza femminile tra chi si candida ai nostri concorsi a tutti i livelli. Questo perché è in questa fase che sussiste uno sbilanciamento che poi è molto difficile equilibrare e riequilibrare successivamente. Vi do qualche dato. Quest'estate per esempio la percentuale globale per le tre classi di ragazze che si sono presentate al concorso, il ricorso ordinario, è stata il 30%, percentuale che si abbassa, ahimè, al 24% per le candidate alla classe di scienza. La distribuzione di genere della popolazione studentesca, 23% di allieve, 77% di allieve, riflette sostanzialmente la situazione in ingresso. Peraltro nel corso di perfezionamento le cose migliorano nettamente, le dottorande presenti sono il 36% del totale e in altri contesti, come già vi dicevo, nei corsi di orientamento universitario o nella classe di scienze politiche e sociali assistiamo invece a un totale equilibrio di genere. Sarà quindi importante affrontare le cause prime di questo squilibrio e sarà importante ascoltare gli interventi odierni di Chiara Saraceno e Francesca Biaggini, ma sarà anche importante la collaborazione che già vedo spontanea delle nostre allieve. Stiamo programmando quindi variazioni, come una serie di video di ex allieve, in primis quelle della classe di scienze da promuovere in occasione pubblica e sui nostri canali social. Stiamo lavorando su un progetto ISPIRA, che è un acronimo per inclusività nelle scienze, una possibilità di identificazione e rappresentazione che si propone di affrontare questo tema sfruttando il potente strumento della divulgazione scientifica in modo innovativo. Intendiamo organizzare cicli di seminari nelle scuole secondarie di primo grado, coinvolgendo le nostre allieve come conferenziere. Sarà infine importante recepire le indicazioni che verranno da un gruppo di lavoro appositamente costituito sul Gender Equality Plan, coordinato da Silvio Pons. Per seguire l'equilibrio di genere in tutti i contesti in cui azioni sono possibili, come la composizione dei relatori in convegni, quella delle commissioni di esame, dei docenti delle lezioni di orientamento o della normale a scuola, può certamente contribuire a facilitare una maggiore empatia e da questo punto di vista molto stiamo già facendo, anche se magari gli effetti non saranno immediatamente visibili. A questo proposito, avevo promesso l'anno scorso un intervento su questo tema e in fase avanzata di implementazione il portale alumni.snse.it, lo dovreste vedere tra un attimo, che include, ecco, che include già tutte le informazioni curricolari di cui la scuola è in possesso e a partire da queste consente poi di agganciare molto semplicemente i profili di chi vorrà iscriversi. La nostra storia ormai riguarda più di 8.000 persone, tra allievi e allieve del corso ordinario di perfezionamento, a partire dall'anno dalla fondazione fino all'anno accademico che stiamo aprendo oggi. Dalle indagini che periodicamente svolgiamo rispetto agli esiti occupazionali dei normalisti, sappiamo che accanto ai tradizionali sbocchi in ambito accademico si affiancano sempre più carriere nelle istituzioni e in azienda. Italia ed Europa, ecco, qui vedete sul video una rappresentazione grafica in cui ho chiesto di concentrare in particolare su una particolare coorte che ritengo significativa tra i 30 e 45 anni. Italia ed Europa sono le collocazioni più frequenti, come è ovvio ed è anche immediatamente visibile, per quanto nei paesi extraeuropei si trovi circa il 10% dei nostri ex allievi. Il progetto e il portale si pone l'obiettivo di andare comunque oltre i focus specifici delle indagini. L'idea è quella di far nascere una community a partire dal valore fondanti della nostra comunità, costruire un luogo virtuale dove possa avvenire un dialogo tra gli studenti attuali e quelli sparsi per l'Italia e nel mondo. Concepito inizialmente come una vetrina dell'universo normalista, spero che con la collaborazione anche dell'Associazione Allievi possa diventare uno strumento di conoscenza più immediata della scuola normale e delle opportunità che offre a tutti e tutti. Infatti non è così semplice far comprendere le specificità della normale e più in generale delle scuole superiori ordinamento speciale. Spesso assimilate semplicemente ad atenei delle dimensioni più contenute, finiscono per doversi adeguare a un letto di procuste, di norme non sempre disegnate per loro, in termini di organico, attribuzione di risorse, obiettivi programmatiche. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge Gelmini, che riconosceva la nostra specificità, quella delle scuole superiori ordinamento speciale, in realtà non è mai stato compiutamente declinato ed applicato. Ecco perché con i rettori delle altre scuole, la scuola Sant'Anna di Pisa, la scuola IMT di Lucca, il GSSI dell'Aquila, lo IUS di Pavia, la Sissa di Trieste, stiamo condividendo un percorso per la costituzione della rete delle sei scuole universitarie ordinamento speciale. Vista la particolare natura delle nostre realtà accademiche, dalla selezione del corpo studentesco per solo merito, alla residenzialità degli studenti, all'intreccio anche molto percoce tra didattica e ricerca, al rapporto numericamente privilegiato tra il corpo docente e gli allievi, al fatto di non avere l'esigenza delle coperture didattiche previste dai normali corsi di laurea, le scuole superiori possono porsi come soggetti per sviluppare nuove attività specifiche, come apripista, per sperimentare nuovi modelli di formazione, organizzazione, gestione e funzionamento. Abbiamo proposto al Ministero dell'Università e della ricerca questo nuovo soggetto, che vada oltre l'esperienza che pure ci ha molto insegnato della Federazione delle tre scuole normale Sant'Anna e IUS. A questi livelli di collaborazione, come ho già detto, se ne possono e se ne debbono aggiungere anche altri. La nostra presenza nel network EELISA, la rete di nuove università europee di cui in Italia fanno parte proprio la scuola normale e la scuola Sant'Anna, da questo punto di vista è forse l'esperienza più innovativa, che consolida un quadro già molto ricco di accordi di scambio e di collaborazioni internazionali e ci consente un accesso privilegiato, riservato direi, anche ad altri fondi comunitari. Ad esempio nel 2021 siamo riusciti a ottenere un finanziamento dall'European Institute of Technology su un tema importante per promuovere la formazione, all'innovazione e all'imprenditorialità dei nostri allievi di tutte le classi, questo grazie appunto a un progetto che è una sorta di spin-off del progetto ELISA, il progetto ELISA Unfolds. Un altro esempio che mi piace citare è l'accordo della normale con il collegio degli ingegneri, grazie al quale un nostro allievo del corso di perfezionamento in non scienze, Mario Bernardi, insieme a un team di altri laureandi e dottorandi di vari altri atenei, ha vinto l'edizione 2021, ecco qui vedete il momento della premiazione, ha vinto l'edizione del 2021 di Innovation for Change, un concorso che premia soluzioni innovative ai problemi della società contemporanea, questo con un progetto Farmelody per abbattere l'utilizzo di antibiotici negli allevamenti animali, impiegare al meglio il cibo, ridurre l'impatto sul clima. Sempre in un'ottica di promozione della ricerca vorrei citare l'adessione della scuola all'European Open Science Cloud, il cui obiettivo è federare e coordinare le esperienze più avanzate nella gestione e condivisione non solo degli articoli scientifici ma anche dei dati, al fine di costruire un ambiente virtuale, il web dei dati, accessibile globalmente. La Normale è decisa quindi a incrementare l'open access delle proprie pubblicazioni scientifiche, avendo anche la condivisione di dati, software, protocolli e metodologie. Inoltre su questo ulteriore sviluppo, c'è un ulteriore sviluppo sul quale è veramente stato determinante lo stimolo degli allievi, gli autori presenti nella piattaforma Iris dei prodotti di ricerca, saranno censiti nell'universo Wikidata per accrescere la visibilità in rete e l'interconnessione con i principali database bibliografici. A proposito di azioni di networking, vorrei anche ricordare l'adessione della scuola normale alla rete internazionale Scholars at Risk, in particolare alla sua articolazione italiana SAR Italia. Lo scopo di SAR è fare opera di sensibilizzazione sulla libertà accademica e sui diritti umani nella società civile, promuovere ricerche sui temi ad essa collegati, ma anche proteggere e ospitare qualificati studiosi che, nei rispettivi paesi, versano in condizioni di effettivo rischio personale. La scuola è parte attiva nella definizione dei programmi di attività e delle iniziative di SAR, anche attraverso la partecipazione attiva di Lorenzo Bosi, nostro docente di sociologia dei fenomeni politici, e di funzionari della scuola, tra i quali vorrei ricordare Daniele Altamore e Elisabetta Terzuoli. Tra le iniziative in corso, oltre al reclutamento di studiosi a rischio, questo generosamente sopportato sotto il profilo finanziario anche dall'Associazione Amici della Scuola Normale, preseduta da Giuliano Amato, vorrei segnalarne due. Nella scorsa estate gli Atenei della Toscana, tutti aderenti a SAR, hanno predisposto e presentato alla Regione Toscana un progetto pilota per il reclutamento di studiosi stranieri a rischio. Il progetto, che spero possa ricevere l'approvazione della Regione, e qui saluto in particolare l'assessore Alessandra Nardini, che ha supportato molto questo progetto, si prefigge appunto di creare un laboratorio permanente regionale sui temi della libertà accademica, in grado di elaborare progetti, attrarre finanziamenti e influenzare positivamente le politiche nazionali e comunitarie sul tema della migrazione culturale e dell'accoglienza in ambito universitario. Il progetto prevede tra l'altro l'assegnazione alla scuola normale, in particolare all'Istituto Ciampi a Firenze, di un ruolo di coordinamento. Inoltre è in corso una diretta interlocuzione con il Ministero dell'Università e della Ricerca per ottenere un impegno a cofinanziare gli Atenei che intendono ospitare studiosi stranieri a rischio, insieme alla ricerca di specifiche norme di legge che prevedano una deroga per il reclutamento di ricercatori, studenti di dottorato e studenti post laurea per motivi umanitari. Lo sguardo internazionale è nel DNA della nostra istituzione, ma sempre più la normale impegnata anche a favore del territorio in cui è inserita, non solo con la programmazione scientifica e culturale, come la stagione concertistica che finalmente riprende in questa stagione interamente in presenza al Teatro Verdi di Pisa, ma anche con interventi volti al finanziamento di enti culturali o al riutilizzo di sedi storiche in abbandono. A Firenze, con l'Università degli Studi, intendiamo recuperare, valorizzare un edificio a Palazzo Vegni in cui collocheremo attività di studio e di ricerca della classe di scienze politico-sociali. In questa sede mi fa anche molto piacere sottolineare che sta proseguendo con buoni risultati il lungo percorso di risanamento, anche in questo caso avvalendosi di un contributo specifico dell'Associazione Amici della Scuola, della Domus Galileiana, la cui fondazione ente gestore è sostanzialmente commissariata dal 2012. Ricordo che presso la sede della Domus, nel Palazzo della Specola in Via Santa Maria, sono conservati documenti unici al mondo, ad esempio l'archivio Ettore Maiorana. Ecco, qui vedete una foto del frontespizio del suo libretto universitario. Documenti, diciamo, ora difficilmente accessibili agli studiosi per le condizioni di forte degrado in cui versa l'immobile. Grazie al nostro interessamento in questi ultimi anni, in particolare al recente lavoro dell'ultimo commissario straordinario Massimo Asaro, è stata sottoscritta una convenzione che coinvolge tutti e tre gli Atenei cittadini, oltre che il Comune di Pisa, per avviare un processo di fusione per incorporazione della Fondazione Domus Galileiana nella fondazione universitaria Galileo Galilei di Pisa, preseduta da Carlo Petronio, che qui saluto, proettore vicario dell'Università di Pisa. Ecco, un altro bellissimo documento, questa lettera d'invito del fisico Danese Niels Bohr, uno dei padri della meccanica quantistica, a Enrico Fermi. Quindi, tornando al progetto di cui parlavo, si tratta di un progetto di razionalizzazione degli enti culturali dedicati a Galileo, validato dalla Prefettura di Pisa, per la quale la collaborazione di tutti sarà fondamentale. L'obiettivo è restituire alla città e alla comunità scientifica la piena accessibilità dei materiali, strumenti, libri, manoscritti, adesso presenti alla Domus, trasferendoli presso la cittadella galileiana dei Vecchi Macelli. A proposito di collaborazioni in ambito locale, vorrei anche ricordare la collaborazione con l'Unione Industriale Pisana, con la quale la scuola normale ha già incorso collaborazioni a diversi livelli, sia formativi che divulgazioni. Ecco, chiudo parlando anche un altro po' più in dettaglio della scuola. Un esempio di interazione proficua tra enti di ricerca e territorio sono i nostri stessi laboratori e centri di ricerca. Il laboratorio NEST, diretto da Fabio Beltram, al cui interno operano anche il CNR e il IT, quindi in maniera sinergica varie altre realtà accademiche, che da quest'anno tra l'altro anche uno spazio espositivo all'interno del Museo del Bargello. Il laboratorio di biologia, ospitato nell'area di ricerca del CNR, diretto da Antonino Cattaneo, che sta legando la propria missione allo studio del cervello e ai meccanismi neuronali legati allo sviluppo e all'invecchiamento. E ancora il centro di ricerca interuniversitario De Giorgi, promotore di convegni internazionali sulla matematica, in collaborazione, altro esempio di collaborazione virtuosa con l'Università di Pisa e la Scuola Sant'Anna, diretto da Andrea Malchiodi. Il laboratorio di archeologia, diretto da Anna Magnetto, grazie al quale la scuola normale è ben attiva su vari siti archeologici della Sicilia. Il laboratorio di documentazione storico-artistica DocStar, diretto da Flavio Fergonzi. Il laboratorio Smart, la cui attività è volta alla chimica computazionale, diretto da Vincenzo Barone. Vorrei anche parlare un attimo della biblioteca. La biblioteca è un centro vitale per la vita della scuola e non solo, essendo frequentata da tantissimi studenti e studiosi non solo della normale. Il numero delle presenze annue in biblioteca si aggira intorno ai 60.000 all'anno e lo stesso può dirsi per il numero di prestiti erogati intorno ai 20.000 all'anno. Numeri che in realtà non tengono conto degli accessi online alle risorse della biblioteca, che sono sempre più massicci e che danno le dimensioni dell'attività di questo centro vitale soprattutto per la ricerca umanistica e che anche nei mesi difficili della pandemia non ha mai mancato di prestare i propri servizi. La biblioteca è cresciuta negli anni fino a rendere necessario l'uso di ulteriori parazzi storici, come il Palazzo della Canonica, qui in Piazza dei Cavalieri, oggetto appunto di concessione per il quale siamo grati alla Regione Toscana, è ora appunto in fase di ristrutturazione, e siamo anche molto grati alla Regione per la concessione dell'immobile in Via Roma, che è sempre più vitale per le nostre esigenze di spazi e che speriamo possa, dopo la stasi pandemica, concretizzarsi al più presto. Vorrei poi ricordare il centro edizioni della scuola che ha avviato il progetto Incipit, che si propone di favorire la collaborazione di importanti enti culturali e di ricerca italiana attraverso seminari di carattere interdisciplinare su temi centrali del dibattito scientifico. Per la prima volta la linea editoriale di una press university è affidata proprio agli studenti, che discutono possibili temi di oggetto, di pubblicazioni durante questi seminari allargati agli allievi di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Tra le pubblicazioni di quest'anno spiccano i due fondamentali volumi in onore di Carlo Azzeglio Ciampi, pubblicati anche con il contributo della Fondazione Livorno e presentati giusto un mese fa, il 15 ottobre, all'Accademia dei Lincei, alla presenza del Capo dello Stato. Questi volumi raccolgono gli atti dei cinque convegni organizzati in occasione del centenario della nascita di Ciampi. Accanto al ricordo di un allievo imminente, i due volumi gettano luce in chiave critica e con le tante testimonianze dei diretti protagonisti su momenti centrali della storia della nostra Repubblica. Ecco, mi avvio verso la chiusura. Confido che la scuola normale potrà cogliere nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripressa e Resilienza, al quale ci stiamo attivamente preparando, ulteriori possibilità di sviluppo. Possibilità di sviluppo che non solo solo tecnologia. La normale per fortuna cambia e si rinnova, come abbiamo visto, ma cercando di mantenere ferme le sue caratteristiche fondamentali. Aspico che tutte le sue componenti e io stesso sappiano anche in quest'anno accademico riaffermare i valori che l'animano da sempre, la curiosità intellettuale, lo spirito critico, il rendersi disponibili alla crescita della società in ogni settore. Proprio Carlo Azzelio Ciampi, e un altro normalista illustre scomparso proprio pochi giorni fa, Luigi Blasucci, un grande studioso del poeta Leopardi, che vorrei appunto in questa occasione ricordare, sono la testimonianza che il Paese ha bisogno anche di questi valori. Quindi dichiaro aperto all'anno accademico 2021-2022 e vi ringrazio. Interviene adesso il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Lo passo. Caro e stimato direttore, signor Prefetto, signor Presidente della Regione, signor Sindaco, amici tutti e colleghi. Ci tengo molto ai colleghi. Io rimango l'universitario e la toga rimanga la mia pelle principale. Ho aderito con grande gioia all'invito che mi è stato rivolto di essere presente qui oggi. Sicuramente perché la Scuola Normale Superiore è la punta più avanzata dell'intero sistema educativo nazionale. Ma anche perché ci troviamo in un momento assolutamente straordinario della vita del Paese. Stiamo lavorando tutti per uscire dal lungo tunnel del Covid. Ma per uscire anche dall'ancor più lungo tunnel di quella bassa crescita che ha determinato lo sviluppo del Paese negli ultimi 15 anni e che non ha generato condizioni per poter creare lavoro e soddisfazione per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Il Covid in in qualche modo ci ha confuso perché ha creato una sorta di sospensione quasi obbligando il fatto che in questi 15 anni il mondo stava cambiando in maniera così radicale. Stava cambiando in maniera così radicale sia dal punto di vista produttivo. La fine della lunga stagione del fordismo e del post fordismo, cioè quella parte importante, importantissima della vita del mondo che si basava sulla grande produzione di massa, quindi sulla standardizzazione. Quel lungo periodo che invece viene sostituito, si va a fare in bombo. Allora ci pensino i tecnici, i tecnici pensatici, evitiamo l'ecco che io sento. ma anche un lungo periodo in cui pensavamo e si pensava che dopo i decenni in cui il mondo era stato diviso in due parti più uno, il mondo di qua, il mondo di là e il resto si chiamava terzo mondo, quasi un residuo non individuabile. Tutto il resto sarebbe stato gestito sostanzialmente dal mercato. Quasi un'entità capace di aggiustare qualsiasi cosa e risolve tutti i problemi. Dopo il Covid, o in fase di uscita dal Covid, speriamo, scopriamo invece che questo non è sufficiente e dobbiamo riscoprire che invece esistono dei beni pubblici. Io direi dei beni pubblici globali. Il bene pubblico, come sapete, è quel bene il cui il mio diritto di godimento dipende dal fatto che anche tu abbia quello stesso diritto. E se tu non hai quel diritto io non ce l'ho. E i beni pubblici globali che stiamo scoprendo sono la salute, perché ci è mancata. E abbiamo scoperto che per ritrovare la salute bisogna che nel mondo tutti siano messi in condizione di essere in salute. Il secondo è sicuramente l'ambiente. E stiamo scoprendo ancora una volta che di fronte al degrado ambientale e ai problemi climatici che stiamo avendo non basta che io qui, in questo momento, tiri su un muro. Non c'è muro da tirare su. O tutti siamo in grado di cambiare contestualmente in modo multilaterale, come si dice oggi, ma in maniera integrata, come vorrei dire, comunque il problema non si risolve. Ma il terzo bene pubblico globale che stiamo scoprendo è l'educazione. L'educazione è un bene pubblico globale senza il quale né la salute né il cambiamento climatico diventano oggetto di un movimento generale di massa globale. si sta scoprendo che l'educazione non può essere più il luogo della separazione, perché questo è stato, ed è stato per troppi anni, in tutti i paesi, è stato il luogo della divisione, che cominciava quando i bambini non erano ancora nati e poi si perpetuava nel tempo, diventando cumulativo. L'educazione diventa il luogo invece in cui ricostruire, ricucire, non soltanto il nostro paese, ma anche questo mondo lacerato. E quindi come tale è tempo di trattare l'educazione come un bene pubblico, un bene la cui mancanza da parte di qualcuno rende inefficace anche il mio diritto globale, perché dobbiamo fare di questo movimento un grande movimento che coinvolga tutto il paese, l'ha detto il Papa, l'ha detto anche la quantità di situazioni internazionali in cui siamo ritrovati, i G20 di Catania, che io stesso ho presiduto, la riunione che abbiamo fatto a Glasgow, condivisa insieme con il governo inglese, la riunione dell'UNESCO la settimana scorsa, questa grande alleanza a livello mondiale per l'educazione, un'indicazione di qualità, un'indicazione inclusiva, un'indicazione aperta. Questo implica che le possibilità, le risorse, le riforme che ci chiede il PNR non sono e non debbono essere visti come un fatto settoriale, non è materia degli insegnanti, degli studenti, delle famiglie, è materia di tutto il paese, è il luogo necessario in cui noi non soltanto apriamo il paese a livello internazionale, ma facciamo del paese quello che sta diventando, cioè un punto di riferimento a livello internazionale. Noi abbiamo cominciato a lavorare su questo, certamente non da ora, da febbraio, quando eravamo ancora nel terzo lockdown e abbiamo fatto la scelta di lasciare i bambini a scuola, quando abbiamo deciso di fare quei famosi concorsi straordinari che erano lì e già c'erano lì da tempo, quando abbiamo deciso di fare gli esami di maturità e testa media in presenza, non perché siamo amanti del rischio, ma perché sapevamo in qualche modo come fosse essenziale dare l'indicazione che la scuola è in presenza. Questo vuol dire buttare via tutte le esperienze che abbiamo fatto? No, l'ha detto prima benissimo il direttore, vuol dire usare quegli strumenti, ma anche quello che abbiamo forzatamente imparato, non per chiudere, ma per aprire, per condividere attività educative con scuole lontane. Io lo dico sempre, ah se potessimo in qualche modo condividere le attività di una scuola di Ponte d'Era con una scuola in Germania, o se tutte le nostre università si mettessero a disposizione del nostro sistema scolastico facendo quello che esattamente ha detto prima il direttore, mettendosi a disposizione. Durante l'estate abbiamo investito molto in progetti che prefiguravano anche una scuola che fosse, che avesse come segno l'inclusione e non l'esclusione, che avesse come segno l'apertura e non la chiusura. E quando siamo arrivati a settembre l'apertura è stata lungamente preparata. E abbiamo utilizzato tutti gli strumenti, il fatto di avere gli insegnanti il 4 di settembre non è stato un colpo di fortuna, è stato l'utilizzo degli strumenti di Big Data e Artificial Intelligence che non hanno mai stati usati prima e ci hanno permesso di avere il quadro di tutti i docenti presenti. Così come il controllo del Covid, che sembrava essere impossibile da attuare, è stato ancora una volta un utilizzo, io credo importante, di Big Data nella pubblica amministrazione. Quindi la scuola ha anche come luogo di innovazione della pubblica amministrazione. Tutto questo però ci porta a dire che le risorse che noi oggi abbiamo a disposizione e che dobbiamo mettere a disposizione e che metteremo a disposizione fin da subito, dobbiamo però affrontare alcuni nodi. Noi a novembre faremo il primo bando dei 5 miliardi. Da dove partiamo? Partiamo dagli asili nido. Perché se un bambino nasce in una provincia del nord, la famosa Reggio Emilia, ha il 46% delle possibilità di avere un asilo nido. Se nasce in un'altra provincia, ad esempio Messina, ha il 3%. E ora non puoi cominciare la discriminazione fin da quando un bambino è appena nato. E questo è materia di investimento. Materia di investimento per tutti e coinvolge tutti. Coinvolge il governo nazionale, coinvolge l'Europa, coinvolge i comuni, coinvolge le regioni, coinvolge tutto il sistema. Ma tutto questo non avrebbe senso se non coinvolgesse tutto il paese. La verità è che tutte queste cose si fanno o come atti burocratici o con l'entusiasmo della costruzione di un paese nuovo. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di ritrovare l'entusiasmo. Contro la depressione individuale e collettiva bisogna ritrovare l'entusiasmo della costruzione del paese. E, permettetemi anche, l'orgoglio del paese, cosa che ogni tanto ci sfugge. Così faremo i bandi per le mense e le palestre, perché altrimenti non si parla di tempo pieno. Le scuole nuove, quelle a impatto zero, che sono scuole nuove, ma che personalmente avevo già sperimentato durante il terremoto delle miglia del 2012, perché ci sono anche queste esperienze che si portano sulla pelle e si impara, cioè si apprende e si fa proprio anche da queste. E poi la messa in sicurezza delle nostre scuole. Ma questo serve per poi, possiamo investire, sulla riforma di tutta la filiera tecnico-professionale. E qui, permettetemi di ringraziare veramente, veramente, questa cosa che prima lei ha detto, direttore, questo esercizio fatto insieme con la scuola di Pontevera. Cioè, in un sistema scolastico che fin dalla legge Casati 1859 era fatto a scale. Il liceo, poi il 23 liceo scientifico, poi le scuole magistrali, poi gli istituti tecnici, poi i professionali, poi la IFP regionale. Beh, insomma, ragazzi, è tempo anche di riequilibrare il sistema. È tempo di ridare l'orgoglio a tutti di fare le proprie scelte. Non come seconda scelta, ma come prima scelta. È tempo di permettere a tutti di fare le loro scelte accompagnandoli. Quando dico a tutti, mi si permette di fare una riflessione sul genere. Noi siamo in un paese in caduta demografica vertiginosa. L'anno scorso sono nati 400.000 bambini. Noi abbiamo bisogno che in tutte le attività scientifiche, professionali, ci sia più presenza di ragazze. Ma non perché abbiamo soltanto un bisogno necessario di giustizia sociale. Perché altrimenti il paese non c'è più. Il paese non c'è più. Questa caduta demografica è una caduta demografica che sta mettendo a rischio i livelli minimi di sussistenza del paese. Altro che fare muri e barriere. Altro che schierarsi contro coloro che pretendono di avere nel nostro paese un futuro. Dobbiamo dimostrare noi di essere un paese che è in grado di offrire un futuro alle persone. Altro che muri. Abbiamo bisogno ben di altro. Abbiamo bisogno di spaccarli tutti. i muri. Così come dobbiamo lavorare sugli ITS, stiamo portando in fondo con il senatore Nelcini la riforma. La riforma del reclutamento. E ancora una volta grazie direttore, perché fare insegnanti non può essere una seconda scelta. Però bisogna essere accompagnati fin dall'inizio. E allora l'orientamento diventa fondamentale. Così come diventa fondamentale la scuola di alta formazione, per formare e riqualificare tutti i nostri docenti, un milione di docenti abbiamo. E su questo io domando aiuto a lei e a tutte le scuole superiori, perché abbiamo bisogno di voi. Non si può fare una scuola di alta formazione se le nostre scuole superiori non partecipano a questa, che non può essere un'avventura ma deve essere un investimento collettivo. Vi ringrazio in anticipo. Come si dice, accetto la vostra adesione volontaria. E poi la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico. Noi abbiamo una frattura, voi lo sapete. La frattura più delicata l'abbiamo fra la scuola primaria e la scuola media. La chiamiamo così ancora, perché faccio sempre fatica a trovare degli altri nomi. Dice una frattura. E l'altra frattura è intorno ai 14-15 anni. Sono fratture che rimangono poi nella pelle delle persone. E non ci possiamo permettere che i nostri ragazzi abbiano altre fratture. Però tutte queste sono cose che dobbiamo pensare con entusiasmo. Non stiamo facendo una ordinaria manutenzione di un settore particolare del nostro paese. Un comparto, come si dice in linguaggio sindacale. Stiamo mettendo mano a quella che è l'infrastruttura fondante di un paese. A quella che è la struttura fondante di una unità europea che se non riparti dalla scuola non arriva mai in fondo. Per questo le parole del direttore sono state così importanti. Perché ha dimostrato che non bisogna cercare il rapporto fra università e scuola chissà dove. Ma va cercato da dov'è. L'università, e qui mi si permetta di rivolgere veramente un saluto affettuosissimo a tutto il polo universitario di ricerca di Pisa che è un unico, io credo in Italia ma fatemi dire anche in Europa. L'università è la prima agenzia di ricerca ma la ricerca va diffusa e la scuola è il luogo della diffusione della ricerca e bisogna trovare i modi per poterla diffondere affinché tutte se ne possano appropriare. L'università è il luogo non solo della didattica ma anche della formazione del come si fa didattica in particolare delle scienze. In questo caso allora la famosa terza missione che tutte le volte che uno nomina una cosa come terza vuol dire che non l'ha ben individuata. La terza missione diventa importante. Non c'è un generico rapporto con le imprese. C'è un problema di accompagnamento alla trasformazione del paese di cui le università e la scuola vista come attività long life cioè la scuola non solo in cui tu assegni una parte della tua vita ma che ti accompagni per tutta la vita diventano loro gli elementi fondanti della trasformazione del paese. Siamo in una fase assolutamente cruciale della vita del paese. Siamo in una fase indubbiamente difficile della vita del paese. Siamo in una fase assolutamente difficile della vita dell'Europa che deve ritrovarsi e deve capire qual è il proprio ruolo fa Stati Uniti ogni tanto confusi e Cina ogni tanto arrogante. Questa capacità di ritrovare il nostro ruolo in Europa, nel mondo questa capacità di dimostrare di essere credibili nel mondo è oggi la particolare sfida che l'Italia sta svolgendo. C'è un grande bisogno di Italia nel mondo ma l'Italia deve essere credibile e la credibilità dell'Italia e nella capacità di mettere in movimento tutte le proprie capacità tecniche, scientifiche e educative al servizio del paese e al servizio dell'Europa. Non è mai stato così chiaro come in questo momento. Non è mai stato così fatemi dire anche pesante come in questo momento gli obblighi che abbiamo sulle spalle. Noi dobbiamo riportare il paese o forse anche portare il paese ad essere di riferimento all'internazionale. e lo possiamo fare proprio partendo dalle nostre aule le aule delle scuole le aule delle università le scuole delle e quelle delle scuole superiori. Come tutte le cose sono pesi gravosi e per questo bisogna portarli insieme e quindi credo che insieme sia il significato anche del lavoro che dobbiamo fare oggi. Grazie. 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 Interviene adesso Chiara Saraceno sociologa onorari fellow del collegio Carlo Alberto di Torino. Buongiorno a tutti grazie direttore di avermi invitata di avermi dato questo onore peraltro da un po' di anni sento la scuola un pochino come casa mia tardivamente quando sono uscita dall'università per pensione ma in qualche modo ho trovato questa nuova casa. il tema che affronterò oggi riguarda le questioni in gioco quando si parla di disuguaglianze di genere un tema che abbiamo anche affrontato nel comitato di cui mi onoro di appartenere qui alla scuola come più di quando ci si riferisce a questioni che riguardano l'uguaglianza e l'odiguaglianza tra gruppi sociali differenziati per una qualche caratteristica ascritta etnia colore della pelle religione o altro l'uguaglianza o la disuguaglianza di genere tra uomini e donne riguarda più dimensioni riguarda sia le risorse per lo sviluppo delle capacità come dice la nostra Costituzione sia il riconoscimento delle stesse non è solo un problema di riconoscimento di risorse ma anche il fatto che quando ci sono non sempre sono riconosciute nello stesso modo riguarda la messa tra parentesi delle differenze come dice il filosofo Walser quando parla di uguaglianza ma anche il riconoscimento che in alcuni casi le differenze del gruppo dominante diventano lo standard che struttura le condizioni in cui anche i portatori di altre differenze devono muoversi sono giudicati devono farsi riconoscere le differenze del gruppo dominante diventano il letto di procusta in cui tutti gli altri devono adagiarsi vedi il paradosso di quella sentenza di qualche anno fa negli Stati Uniti che accettò il ricorso di chi aveva contestato uomini come contrario all'uguaglianza a un accordo aziendale mi divertì molto ma mi compì molto che prevedeva una copertura sanitaria per la gravidanza e il parto negli Stati Uniti non c'è come perché il parto e la gravidanza come è noto riguardano solo le donne quindi non erano un fatto universale quindi era giusto avere una copertura che coprisse l'appendicite ma anche la chirurgia estetica perché tutti possono rifarsi in naso non la maternità e il parto perché questo capita solo alle donne quindi è un'idea di uguaglianza peculiare la complementarietà tra la rivendicazione dell'uguaglianza di genere nell'accesso alle stesse occupazioni e profili di carriera da un lato del riconoscimento del pari valore di occupazioni diverse è una delle forme in cui si esprime questa tensione trammessa tra parentesi delle differenze e viceversa il loro riconoscimento critico per modificare standard solo apparentemente neutrali anni fa facendo un corso per grandi dirigenti di banca stranamente tutti uomini salvo uno salvo una donna mi si disse che le donne erano brave come gli uomini avevano esattamente le stesse competenze non riuscivano a salire oltre un certo livello perché le norme della carriera in banca richiedono che a un certo punto ci si muova continuamente da una città all'altra non solo da un'agenzia all'altra e le donne non erano sempre disposte a muoversi mentre invece gli uomini si perché gli uomini si perché gli uomini consideravano la famiglia come bagaglio appresso nel migliore dei casi nel peggiore dei casi la lasciavano lì e loro si muovevano e quindi dei figli eccetera si occupava la moglie poi nelle conversazioni nelle pause caffè molti di questi dirigenti oltre a raccontarmi terribili storie di loro vicende familiari seguite a queste vicende che però non mettevano in rapporto con questo mi dissero anche che tra i più giovani anche gli uomini cominciavano a fare resistenza a questo questo processo di mobilità sia perché le loro mogli non erano più bagaglio appresso e i figli anche non volevano seguirli ogni volta che si spostavano sia perché loro stessi cominciavano a pensare di perdere qualcosa nel processo allora io sommessamente dissi ma forse allora dovreste cambiare le regole perché altrimenti finite col far carriera a un gruppo molto ristretto di persone che non necessariamente ha le migliori capacità per fare il dirigente bancario forse perché magari non capisce bene quello che sta funzionando in società apparentemente l'istruzione è il campo in cui anche in Italia non solo l'uguaglianza di genere è pienamente realizzata almeno dalla fine degli anni 70 si è chiuso il gender gap nell'istruzione ma addirittura le donne hanno superato i loro coetanei maschi nelle più giovani generazioni per quanto riguarda sia il completamento degli studi superiori sia la rigolarità del percorso sia i voti anche se poi vedi caso ciò non si traduce in parità di chance nel mercato del lavoro e nella progressione di carriera anche entro l'università quando io nella notte dei tempi sono diventata il professore ordinario con me scattò il 10% di donne ordinarie in tutte le discipline non era la notte era la notte dei tempi sicuramente però insomma era il 90 quindi non proprio un secolo fa adesso credo che dopo 30 anni credo che siamo arrivati al 22% quindi eppure il gender gap nell'istruzione si è chiuso da un bel pezzo quindi c'è qualche cosa che non funziona lì quindi anche introducita stante il perdurare di stereotipi ma anche una persistente divisione asimmetrica del lavoro familiare e il diverso impatto sia su padri e madri della genitorialità qualche anno fa mi fu chiesto dall'università di Stoccolma di far parte di una commissione che doveva fare la short list per l'ordinariato in sociologia e mi colpì molto che tutti i candidati che erano peraltro prevalentemente uomini comunque una gran parte dei candidati aveva inserito nel proprio curriculum il fatto di aver preso un congedo genitoriale e anche quanti mesi di congedo genitoriale avevano preso ovviamente questo l'avevano fatto non tanto per farsi belli ma perché questo serviva a noi a valutare la loro produttività scontando questo periodo di però io mi sono chiesta se un candidato maschio a concorso universitario mai avrebbe messo in Italia di essere stato in congedo genitoriale questo sarebbe stato valutato probabilmente come viene normalmente valutato per le donne come un disinteresse un ridotto impegno un ridotto investimento nella carriera universitaria quindi i modelli culturali contano ma anche nel mondo dell'istruzione quindi rimanendo al prima di uscire sul mercato quando quando poi le cose non vanno così tanto bene le cose sono meno linearmente positive di quanto non appaia a prima vista dai dati sul superamento del gender gap e addirittura quasi il rovesciamento non solo tra i net cioè tra coloro che non sono né in istruzione né nel lavoro l'incidenza delle donne è più elevata che dei maschi perché tanto si dovranno sposare non importa soprattutto a certi livelli e questo anche per alcuni gruppi etnici è un problema molto grosso ad esempio durante la DAD seguendo scuole frequentate da ragazzi scuole medie superiori in situazioni di svantaggio è capitato di vedere che tra coloro che avevano abbandonato nel tutto perché questo è un dramma ministro coloro che hanno abbandonato e che non è stato sufficientemente recuperato questo dramma comunque tra coloro che avevano abbandonato c'era un altissima percentuale di ragazze che di alcuni gruppi etnici costretti a fare le mamme cioè costrette ad occuparsi dei fratellini e sorelline più piccole mentre i genitori madre inclusa lavoravano un po' quello che succedeva in alcune nostre regioni negli anni 50 in cui la figlia maggiore sostituisce la madre quindi non solo tra i net l'incidenza delle donne elevata anche la segregazione disciplinare dei percorsi di studio rimane elevata meno che negli anni 70 molto meno ma rimane ancora abbastanza alta più che in altri paesi le ragazze in italia rispetto alla maggior parte dei paesi europei sono più concentrate nei percorsi umanistico sociali e in alcune lauree deboli scienze dell'educazione ad esempio nobile percorso però che non dà molti sbocchi nel mercato del lavoro e soprattutto che non non fa accedere a carriere e a stipendi elevati e sono meno presenti nei percorsi STEM certo a proposito di occupazioni di pari valore si può discutere sulla scarsa valorizzazione dell'insegnamento come professione ministro è vero che deve essere una vocazione nobile e però come tale va riconosciuta cioè la vocazione così gratis dopo un po' non funziona quando le vocazioni sono aspettate gratis dopo un po' non funziona e sul basso prestigio sociale remunerativo di occupazioni come l'assistente sociale o l'educatore per esempio l'educatore di strada si parlava prima di che sono profili professionali peraltro sempre non solo delicatissimi perché hanno a che fare con i più piccoli con le persone con svantaggio che quindi richiedono anche grandissime competenze oltre che grandissimo investimento anche emotivo ma anche sono sempre più necessarie in una società attraversata da grandi mutamenti e diversificata dove le condizioni di disagio sono diffuse quindi da un lato bisognerebbe valorizzare queste cose così come ci si può chiedere perché queste siano ritenute professioni tipicamente femminili e se ciò sia un bene dal punto di vista dell'efficacia ad esempio perché le assistenti sociali sono prevalentemente nel 90% dei casi donne non credo che sia sempre bene che ci siano solo donne che trattano per esempio coi ragazzini in difficoltà c'è un problema di rimane comunque il fatto di questa se non segregazione differenziazione riduttiva dei percorsi formativi che riduce il campo di sviluppo delle capacità delle donne più di quanto non riduca quello degli uomini almeno per quanto riguarda le capacità necessarie per seguire e padroneggiare importanti settori della ricerca dell'economia e dello sviluppo io sono un umanista vorrei dire laureata in filosofia e poi ho fatto la sociologa quindi sto proprio nel campo non STEM quindi non parlo per fatto personale proprio perché la situazione italiana è diversa da quella di altri paesi a noi pure a noi vicini è necessario guardare i modelli e stereotipi culturali che sembrano persistere più fortemente nel nostro paese nell'informare i modelli di socializzazione in famiglia nella scuola primaria e secondaria nelle varie forme di comunicazione pubbliche che plasmano aspettative incentivando o viceversa disincentivando comportamenti vocazioni desideri processi che vengono rinforzati dal disuguale riconoscimento di competenze pur simili nel mercato del lavoro in politica anche in politica nella comunicazione pubblica e così via per questo il contrasto agli stereotipi di genere deve diventare un'azione sistematica a tutti i livelli a partire dalla scuola e dai più piccoli non tanto nella forma di iniziativa ad hoc non una lezione come di educazione civica ad hoc separata ma di comportamenti e modalità di comunicazione e relazione a livello quotidiano e sistematico nell'insegnamento normale nelle forme di apprendimento normale se una bambina dice che non le piace la matematica o che non la capisce più che dire vabbè non importa tanto una bambina farà la maestra quindi non importa che poi non saprà insegnare la matematica ma comunque oppure si sposerà deve diventare un interrogativo per i genitori e gli insegnanti così come se un bambino maschio dichiara che non gli piace leggere cioè è un problema per chi insegna non qualcosa di cui io ho una nipotina che ha fatto il famoso passaggio quest'anno dalle elementari alle medie e certamente c'è qualcosa che non va ma mi ha entusiasmato quando mi ha detto che finalmente le piaceva le piace la matematica perché la sua professoressa di matematica insegna benissimo mi ha detto dopo anni in cui tutte le estate facendole fare i compiti delle vacanze cosa horrorosa ma comunque ogni volta che c'era l'esercizio di matematica era una sofferenza sentirmi dire che finalmente le piaceva perché era cambiata l'insegnante perché finalmente l'insegnante la attraeva mi ha fatto capire che era una cosa bella e buona ma oltre a rischio di uno sviluppo delle capacità vincolato dall'appartenenza di genere c'è anche quello di una riduzione delle ambizioni delle disponibilità ad uscire da percorsi sicuri lo squilibrio di genere che si trova anche in istituzioni come questa in parte può essere dovuto a sistemi di reclutamento tarati su stili e modalità di performance che si trovano prevalentemente tra i maschi perché sono più stati addestrati di più a quel tipo di performance o di stili anche se sono so ed è anche stato detto che sono stati fatti molto sforzi da questa istituzione negli ultimi anni per renderli più neutrali e accoglienti ma può anche dipendere da modelli di genere che da un lato orientano le preferenze delle ragazze verso un numero più ristretto di discipline dall'altro scoraggiano investimenti aggiuntivi allo studio come quello della frequentazione normale e nella ricerca per timore che non paghino né sul piano professionale né su quello delle scelte familiari che è una preoccupazione che agli uomini non ai ragazzi normalmente non si presenta nessuno ti dice che se investi troppo nello studio poi magari non trovi una compagna o non puoi farti una famiglia o non pagherà sul mercato del lavoro le disparità di genere che tuttora persistono nel mercato del lavoro e nell'accesso ai gradini più alti insieme alla difficile accettazione di un'effettiva parità nelle coppie possono funzionare da disincentivo nel momento delle scelte formative questo effetto di disincentivo può essere ulteriormente rafforzato dalla resistenza di molte famiglie ancora oggi a lasciare che le figlie escano di casa e vadano a vivere in un'altra città e fuori come dire dalla protezione e dal controllo della famiglia o ancora possono dipendere cioè c'è più di una causa dalla resistenza a dedicare la propria giovinezza quasi esclusivamente allo studio alla ricerca a costo e questa è una cosa su cui riflettere di sacrificare altre dimensioni pure importanti per lo sviluppo di sé altre esperienze che pure sono importanti per crescere e questo è un tema che non riguarda solo le donne ma potrebbe riguardare anche gli uomini forse che anche agli uomini andrebbe ai ragazzi che frequentano la scuola che bisogna investire anche su altro e non soltanto bisogna investire nello studio e nella ricerca ma anche in altre dimensioni per essere esseri umani come dire un po' rotondi un po' più complessi e anche nell'impegno sociale la scuola sta facendo tanto impegno sociale questo va è bello quello che gli allievi ma è qualcosa che anche gli studenti devono percepire come altrettanto importanti che non solo lo studio per costruire una vera parità anche nei sistemi di alta istruzione come questo occorre sicuramente interrogarsi criticamente sui propri sistemi di reclutamento lavorare fianco a fianco con le scuole secondarie o anche primarie per far capire che un'istituzione come questa è un'opportunità per tutti e tutte coloro che vogliono impegnarsi anche come state facendo ho imparato oggi ricorrendo a docenti studentesse ex alunne che possano fungere da modelli di ruolo e forse è anche necessario ragionare insieme alle studentesse e agli studenti se qualche cosa vada ripensato nel collegio stesso nella sua organizzazione perché sia percepito come un luogo accogliente e ricco di esperienze non solo formative in senso stretto dalle ragazze e non ostile e respingente sapendo che quando si è in pochi in un'istituzione è già difficile anni fa quando venne istituita la facoltà di ingegneria a Trento io facevo allora parte del consiglio di amministrazione di quell'università era un anno in cui c'erano dieci studentesse rispetto a cento studenti maschi in quella facoltà e una studentessa mi disse noi ci quando andiamo in aula ci sediamo tutte vicine in modo da non scomparire totalmente ma anche così raramente i docenti ci vedono ma non si può ignorare che gran parte del problema è a monte sta nel perdurare sia di stereotipi di genere che vincolano le aspirazioni talvolta fino al punto di ridurre lo sviluppo delle capacità sia di disparità nel modo in cui sono riconosciuti in società e nel mercato nel lavoro e in politica le competenze e i meriti maschili e femminili ed anche sta nella necessità di ripensare su le categorie come si misura l'eccellenza nel sapere e nello sviluppo della capacità un'istituzione come questo certo non può farsi carico da sola nel contrastare questi stereotipi e questi meccanismi che creano disparità è tuttavia importante che se lo ponga come obiettivo nel proprio modo di operare come parte sia direttamente del proprio compito formativo e di ricerca sia indirettamente attraverso le attività di public engagement in cui la scuola è impegnata così come abbiamo sentito nella prolusione del direttore che mi è sembrata molto affascinante proprio su questo aspetto grazie interviene adesso Francesca Biagini alumna della scuola normale superiore vice presidentin for liberaiche internazionales und diversity dell'università di Monaco grazie egregio signor ministro professor Bianchi questo l'avevo già scritto professore magnifici rettrici magnifici rettori carissimi amici prorettori gentilissima professoressa Saraceno egregio direttore della scuola normale vorrei dire caro Luigi distinte autorità carissimi assessori carissimi partecipanti e invitati tutti ma vorrei dire soprattutto carissimi ragazzi e ragazze carissimi normalisti e normaliste per me oggi è un grande onore essere qui a partecipare a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della scuola normale voglio ringraziare in particolar modo il direttore della scuola normale il professor Luigi Ambrogio per questo invito e anche la dottoressa Elisa Guidi che con molta pazienza mi ha supportato nella preparazione di questo intervento perché questo intervento si tratta per me di una cosa molto inaspettata e anche inconsueta io piuttosto sono abituata a fare un talk di matematica a presentare le mie ricerche a conferenze internazionali a parlare per di più in inglese o in tedesco e oggi mi trovo qui a parlare di fronte a voi finalmente nella mia lingua notia in italiano e mi è stato anche richiesto di fare un intervento un po' più lungo ma di cosa vi parlerò oggi ho deciso di parlarvi del mio inizio in retrospettiva ovvero di come la mia esperienza alla scuola normale abbia poi influenzato tutta la mia carriera successiva e oggi posso anche finalmente usare le mani invece in Germania mi mettono sempre lì con le mani incrociate allora direi di fare un passo indietro e di ricominciare dalle presentazioni allora mi chiamo Francesca Biagini sono nata nel lontanissimo 1973 1983 tutti dovevamo far così dillo ancora nel lontanissimo 1973 lo farò grazie nella città nella toscanissima città di Pistoia infatti potete sentire che tanti anni di permanenza all'estero ma anche in altre città italiane non hanno redento il mio accento toscano poi cosa ho fatto nel 2005 sono diventata professore presso la Ludwig Maximilians Universität München ovvero l'Università di Monaco più concisamente detta LMU prima in realtà ero stata a Bologna qui siede un mio collega il professor Angelo Vistoli come ricercatrice dal 99 al 2005 poi sono diventata appunto associata a Monaco di Baviera e avendo avuto una chiamata a un'altra università tedesca l'Università di Annova mi fu concesso di permesso di far domanda anche da ordinario e quindi dal 2009 ho ottenuto la Lehrstuhl ovvero la Cattra sono diventata professore ordinario di matematica anche vante Mathematique per essere precisi appunto all'Università di Monaco di Baviera poi dall'ottobre 2019 il presidente il professor Cuba anche lui economista Bernuba mi chiamò a far parte del suo team e diventai prorettrice agli affari internazionali e alla diversità mi fu fatto questo onore il presidente si dice così sta per rettore però vi chiederete ma come mai oggi sei qui io sono qui perché io ho studiato matematica e fatto il perfezionamento in matematica alla scuola normale superiore di Pisa e guardate non dico ho fatto la normale sono stata allieva ma io dico io sono una normalista e anche voi ragazzi quando troverete magari più l'anno e gli anni alcuni ex allievi a giro per il mondo gli chiederete loro con quell'occhio un po' torvo che la s'allunga non ma te hai fatto la normale sei stata allievo ma li chiederete ma se anche te è un normalista perché aver avuto il privilegio di essere allievo qui alla scuola normale rimane un'appartenenza per tutta la vita io quando per la prima volta salì la scalinata di marmo del palazzo del carovana era nel lontano 1992 e stava andando a fare l'orale dopo aver superato la prova di matematica e io devo dire fin da bambina ho avuto il desiderio di studiare matematica e di far ricerca a matematica perché tutti mi dicevano ah vuoi fare la maestra? no sicché vi potete immaginare con che cuoricino si direbbe in Toscana salì questa scalinata arrivata su mi ha accolto una signora elegantissima che puoi scoprire essere la temutissima segretaria della scuola normale la signora Piccini che mi disse venga Biagini deve andare giù per far l'orale ok arriva giù c'era un altro non so chi ah Biagini vai là che devi far l'orale e io dissi ma ma Remma questi qui scusate questi qui conoscono perfino i nomi degli esaminanti invece il punto era che io ero l'unica ragazza che aveva superato la prova scritta e stava andando a fare l'orale per entrare a matematica comunque vabbè andò tutto bene e alla fine cominciai questa meravigliosa esperienza alla scuola normale anzi devo dire che quell'anno entrammo una ragazza a fisica l'Anna Minguzzi due ragazze a biologia la Lisa Margot e la Graziella Di Cristo e io a matematica un trionfo di diversità di genere nel lontanissimo 1992 devo dire l'inizio fu piuttosto difficile tanto per cominciare le comunicazioni alla scuola normale avvenivano allora attraverso dei minuscoli fogliettini che venivano appesi nella bacheca all'ingresso io non lo sapevo non lo vidi mi persi la riunione di introduzione quindi fatale erro si direbbe oggi quindi altro che gruppino whatsapp la pagina web è bellissima la vostra pagina web oppure video no poi cominciarono le lezioni e non solo la scuola normale ma anche l'università di Pisa e qui mi fu chiaro che il livello dell'insegnamento ma anche delle prestazioni richieste a noi allievi fosse molto diverso rispetto a quella a cui ero abituata fino allora poi per metterci tutti in pari io naturalmente mi riferisco sempre di più alla classe di scienza che conosco meglio e creare uno spirito di gruppo tutta la classe di scienza fu mandata in modo compatto a seguire le lezioni di analisi del professor Conti il professor Conti faceva nel giro di due mesi tutti i temi Carlo approva lo sa fa tutti i temi analisi 1 2 anche un po' 3 nel giro di due mesi la lezione cominciava alle 5 quando cominciava a calare il buio si sentivano i rintocchi delle campane a piazza dei cavalieri e durava fino alle 7 tutti i giorni ora questa qui chiudeva una giornatina che iniziava magari alle 7 di mattina o il corso d'inglese poi proseguiva con le lezioni di matematica nel mio caso all'università di Pisa e se avevi fortuna non avevi il corso di tedesco dopo cena io però rimanevo incantata da queste lezioni di matematica dal simbolismo perfetto dalla complessità del ragionamento allo stesso tempo mi sentivo un po' vaso di coccio fra vaso di ferro perdonate che questa citazione manzoneana una volta che parlo in italiano devo dire lontana da casa io venivo da una piccola città in una famiglia super amorevole coccolata e poi in mezzo a quei geni ho visto che la scuola offre oggi molti più servizi di supporto psicologico che non esistevano ai miei giorni comunque proni su quei tavolacci a studiare stringendo denti con grande determinazione alla fine del semestre eravamo eravamo un gruppo compatto ma chi eravamo? eravamo tutti ragazzi che provenivano da normalissime famiglie italiane pochissime avevano genitori accademici e molti devo dire avevano situazioni familiari che ricordavano quelle non so se l'avete letto del libro l'amica geniale io stesso se guardo in famiglia mia mia mamma che è una donna intelligentissima essendo una bambina di campagna del secondo dopoguerra non ha avuto i mezzi per studiare nemmeno per andare a scuola la mia bisnonna all'età di otto anni si recò per chilometri nel bosco da sola per andare a fare l'esame di terza elementare fuggendo alla famiglia che glielo voleva proibire e ci fu una bellissima storia che vi è entramandata in famiglia con un estremo orgoglio dalle donne della nostra famiglia questa bambina fu messa alla lavagna e fece un conto di matematica e il maestro le chiese ne siete sicura perché allora si dava del vuoto anche a bambini e lei rispose con un sonoro signor sì io invece se guardo la mia carriera sono potuta diventare professore ordinario di matematica in una delle più prestigiose università della Germania di cui mi hanno fatto pure l'onore di farmi prorettore o prorettrice e questo grazie alla formazione personale scientifica regalatami dalla scuola normale e ci ritornerò su questo punto la scuola normale è servita negli anni come ascensore sociale per molti giovani di talento e questo secondo me è un merito grandissimo di questa scuola questa scuola non ha solo regalato all'Italia due presidenti della repubblica tre premio nobel una medaglia filz ma io direi una medaglia e mezzo ma ha formato buona parte della classe accademica e manageriale sia in Italia ma bisogna dire anche all'estero perché molti normalisti emigrano questa istituzione ha dato un contributo fondamentale nel riconoscere e promuovere i talenti in ambito scientifico umanistico e per la loro formazione ma in che modo prima di tutto qui si riceve una formazione scientifica ed umanistica di eccellenza i corsi ma anche le personalità che qui si incontrano sono eccezionali nel senso derogano dalle regole dalla norma anche qui vi faccio racconto un po' un aneddoto ai miei tempi si poteva incontrare tutte le mattine a leggere il giornale al timpano uno dei nostri collegi il professor Ennio De Giorgi il professor Ennio De Giorgi è uno stato uno dei più grandi matematici italiani per esempio nel 1969 risolse con Enrico Bombieri ed Enrico Giusti la congettura di Bernstein sulle superfici minime in dimensioni 8 che poi valse appunto a Enrico Bombieri la medaglia Fields che è il più grande riconoscimento che si possa dare a un matematico sotto i 40 anni in realtà anche Ennio De Giorgi per tanti suoi lavori se le sarebbe meritata una medaglia Fields pensiamo al fatto che risolse il diciannoveso il problema di Hilbert sulla regolarità delle soluzioni alle equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico quindi queste personalità ma tanto per dirne una tanto per dirne una poi nelle lezioni in cui si partecipa in pochi si ha modo di stabilire un contatto diretto con gli insegnanti con i professori che quindi allo stesso tempo però possano pretendere tantissimo dagli allievi e anche andare alla velocità della luce mi ricordo ancora degli scambi durante le lezioni del professor Corrado De Concini di geometria algebica Angelo Ride cui partecipava uno sparuto gruppo di fedelissimi cioè io direi di audaci perché poi eravamo già avanti con gli studi oppure le lezioni di strutture matematiche di fisica quantistica che venivano tenute su un bugicattolo in soffitta non ci eravano tre quindi alla scuola normale si promuovono i talenti ma allo stesso tempo si pretende tantissimo dagli allievi ed è curioso che in tedesco la differenza tra pretendere e promuovere si basa solo su due piccoli puntini su una O appunto pretendere si dice fordern e promuovere si dice fördern non so se sentite la differenza perché per quanti anni il mio tedesco è sempre un po' limitato e proprio su questo filo di rasoio tra promuovere e pretendere si gioca la formazione di eccellenza nella scuola normale però la normale non offre solo eccellenza scientifica ed accademica qui si imparano le lingue per esempio il tedesco l'ho imparato qua si può fare sport si partecipa a concerti ai molti eventi organizzati dalla scuola ora ho visto si fa anche del teatro abbiamo visto anche nella tua presentazione Luigi tante cose qui si impara una forma mentis e soprattutto tra una partitina di scacchi un pranzo alla menza si può partecipare alla grande comunità della scuola normale io dico sempre non si vive alla scuola normale ma si vive la scuola normale e poi un grandissimo vantaggio della scuola è che qui sono ospitati studenti di tutte le discipline quindi venendo a contatto anche senza rendersene conto si crea un grandissimo scambio umano e culturale io per esempio ho trovato qui alla scuola quelli che sono i miei più grandi amici che ormai conosco da 30 anni e per dirla con le parole di Giannino Stoppani del famoso giornale di Gian Burrasca qualcomunanza di spiriti che ci legava e ci lega ancora un regalo per tutta la vita e fu proprio uno dei miei migliori amici Luca Foresti che era una grossa personalità della sanità italiana che mi chiese a un certo punto se volessi diventare rappresentante degli studenti li accettai e mi trovai pure a partecipare alle riunioni del consiglio della scuola e devo dire che io ho sempre vissuto la scuola come un'istituzione altamente democratica sia nel rapporto con i miei compagni che anche con il rapporto con i professori e qui vi devo raccontare un aneddoto di come si svolgessero le riunioni degli studenti allora ai miei tempi esistevano solo le due classi quella di scienze e di lettere e filosofia e spesso tenevamo delle riunioni in parallelo ma separate ovvero nell'aula bianca veniva divisa da una parete mobile da una parte si teneva la riunione della classe di scienze dall'altra quella di classe di lettere e filosofia ora nella classe di scienze avevamo messo una regola ovvero si esponeva al problema si faceva un intervento a favore uno contro e poi si votava in un'ora si è finito di là dall'altra parte della parete veniva discusa oltranza vi potete immaginare poi cosa succedesse quando si facevano insieme era quello che oggi si direbbe un clash delle culture però si imparava a discutere si imparava ad argomentare per le proprie opinioni si imparava ad ascoltare le posizioni degli altri si imparava a rispettarle erano proprio queste differenze questa varietà che rendeva così interessante stare alla scuola normale e questo per dirla anche con le parole del nostro presidente del consiglio riferita a comuni italiani si trattava di questa magnifica varietà e questo mi porta a un tema che a me mi sta molto a cuore come prorettrice agli affari internazionali alle diversità presso l'università di Monaco ovvero la diversità la varietà come motori di eccellenza nella ricerca nell'insegnamento in generale nella vita accademica e lì in questa nella mia linea alla LMU cerco di applicare quello che ho imparato qui ovvero promuovere e pretendere promuovere i talenti e mettere tutti in condizione di sviluppare le proprie potenzialità a pieno però anche pretendere rispetto partecipazione ed impegno da parte di tutti i membri della nostra comunità e adesso se me lo consentite vorrei fare un piccolo escursus e portarvi da Pisa a Monaco di Baviera per farvi vedere brevemente quello che faccio nell'ambito della diversità qui ci deve essere un telecomando ok allora diversity e LMU vedete che la diversità la nostra università possiede molte dimensioni rappresentate da quegli origami qualcosa di matematico doveva essere di vario di vario colore e adesso vi porterò un po' attraverso queste varie dimensioni della diversità e per prima cosa vi faccio vedere una iniziativa che abbiamo fatto da maggio fino alla fine di giugno quest'anno il Diversity Month 2021 con il motto We Care at LMU e in questa iniziativa quello che abbiamo fatto è di prendere come focus di questa iniziativa una dimensione della diversità ovvero quella che in tedesco si chiama Gesunte o Schule l'università in salute ritenendo il benessere fisico e psichico come un prerequisito di un'attitudine aperta e tollerante e quindi in collaborazione con le facoltà i centri d'eccellenza della nostra università il servizio medico della nostra università il clinico universitario che è uno dei più grandi della Germania e poi anche molti partner esterni come lo studentenverc o il servizio sportivo centrale abbiamo organizzato molti eventi per esempio sul work-life balance quindi training work purtroppo si è dovuto fare tutto online oppure speciale per gli studenti dei seminari sul problema della procrastinazione del lavoro degli esami delle crisi psichiche abbiamo anche offerto delle ore di sport online così che i nostri membri potessero provare anche vari tipi di sport abbiamo realizzato un video con alcuni studenti che sono anche atleti a livello competitivo per un po' motivare i nostri studenti abbiamo fatto retrospettiva anche sul nostro clinico ma il cuore di tutta questa iniziativa sono state le cosiddette health lectures ovvero dei seminari su problemi relativi alla salute di rilevanza per l'opinione pubblica per esempio sulle trombosi sulla diagnosi precoce dei tumori sulla relazione fra salute fisica e psichica sulle frontiere della medicina pediatria chiamando a parlare delle personalità di eccellenza appunto della nostra facoltà di medicina e del clinicum questa iniziativa ha avuto piuttosto successo vedete abbiamo organizzato quasi 70 eventi con più di 40 speakers e ci hanno partecipato più di 1200 persone erano pure aperte all'opinione pubblica questo per me è importante innanzitutto secondo me alla fine di questo anno di pandemia ci stava bene pensare appunto alla salute come bene comune ma anche volevo essere un momento in cui si ringraziava la nostra comunità dopo aver dato così tanto per appunto poter continuare a fare le lezioni all'università per poter continuare la ricerca eccetera per questo è il motto We Care at LMU poi quali altre dimensioni ci sono che secondo me sono molto importanti naturalmente il sostegno alla famiglia in generale non solo per le donne ma sia per gli uomini che per le donne e qui abbiamo il nostro sforzo è quello di garantire a tutti appunto un posto all'asilo all'asilo nido alla scuola materna abbiamo anche dei programmi in caso di emergenza in cui appunto si possano avere dei posti di assistenza per i bambini se un asilo è chiuso per uno sciocco eccetera o anche per i nostri visiti abbiamo esteso questa offerta anche online ci sono anche dei servizi di cui si può usufruire in modo virtuale e poi una dimensione che a me stava molto a cuore che è stata quella dell'home care e elder care ovvero assistenza e consulenza nel caso una famiglia abbia appunto un parente o una persona a casa bisognosa di assistenza anche questa è una nuova frontiera per il supporto sociale e poi c'è tutta una serie di seminari per supporto alle famiglie consulenza eccetera poi chiaramente c'è la dimensione del genere che in Germania è vissuta un po' più in senso lato per esempio qui faccio naturalmente evidenza su alcuni dei tanti programmi che noi facciamo abbiamo un attivissimo qui a referata a cui è stato permesso di stare la bandiera a luglio in occasione del Christopher Street Day qui vedete il HOP che voglia il palazzo centrale dell'università ma relativamente anche alle preoccupazioni della scuola e agli interventi precedenti voglio evidenziare un programma che noi abbiamo insieme a molti altri che è il cosiddetto LMU Mentoring ovvero un programma di un mentorato che viene finanziato centralmente dall'università ma che viene svolto singolarmente nelle varie facoltà e questo a supporto dei giovani ricercatori e ricercatrici una volta era originariamente già esista da un po' di tempo era essenzialmente a supporto delle giovani ricercatrici adesso è stato esteso per includere varie dimensioni della diversità per esempio l'internazionalizzazione o la provenienza sociale e questo programma offre supporto assistenza coaching che è molto importante nelle prime fasi della carriera ma anche fondi per viaggiare per partecipare a conferenze poi abbiamo per esempio un tema fondamentale che è quello dell'inclusione che io sto estendendo ulteriormente in questo momento il nostro sforzo è appunto quello di eliminare ogni tipo di barriere sia architettoniche che nell'insegnamento ma anche a livello delle nostre pagine web che possono essere lette dai programmi per gli ipovidenti oppure se facciamo un video ne facciamo anche sempre l'autodescrizione in questo in Germania c'è molta attenzione a questi aspetti e poi un'altra pietra miliare che abbiamo ottenuto quest'anno è la prevenzione e la soluzione dei conflitti e nell'antidiscriminazione e qui abbiamo istituito due nuove figure a cui ci si può rivolgere nel caso uno abbia subito un atto di discriminazione sono due professori dell'università e abbiamo anche realizzato una pagina web in cui si si fa vedere in modo completo tutta l'offerta della nostra università che è enorme come vedrete tra pochi secondi in merito a servizi per supporto qualora ci sia un conflitto non lo so tra un ricercatore o un laboratorio con un compagno o con un professore oppure appunto in casi di antidiscriminazione ma adesso vi ho parlato brevemente di alcune cose che io faccio come progettore alla diversità all'università di Monia di Baviera e adesso ve le vorrei far vedere e vi ho portato un video che ho realizzato appunto durante i tempi della pandemia e questo video è il risultato di un viaggio che io ho fatto nelle facoltà nelle 18 facoltà della nostra università all'inizio quando sono entrata a progettore per me è stato importante andare a conoscere tutte queste situazioni e anche farmi conoscere e allora questo è il risultato è il risultato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una moltitudine di talenti, questa è una frase che mi sta molto a cuore. Ok, ma adesso torniamo qui per concludere. E ritorno a una domanda che ho fatto nella prima parte di questo talk. Ovvero, sarei potuta diventare quello che sono oggi senza essere passata dalla scuola normale? E la mia risposta è no. Ma soprattutto l'esperienza della scuola normale mi ha donato fiducia e determinazione. Non è stato un percorso facile, ma di grande impegno, di grande sacrificio. Una parola tabù al giorno d'oggi, sacrificio. Ho avuto problemi, sono caduto, come si direbbe in Toscana, sono cascata. Non una ma tante volte. Soprattutto voglio ringrazio. Una signora che faceva le pulizie al nostro collegio. La ditta delle pulizie aveva cambiato l'appalto e la nuova ditta voleva cambiare pure il personale. Quindi volevano mandar via questa signora a cui tutti gli studenti erano affezionatissimi. Allora, anche perché a casa mia mi è sempre stato insegnato ad aiutare più deboli, presi il coraggio a domani e mi recai dall'allora direttore della scuola normale, il professor Emilio Picasso. Perché volevo protestare. Ora, il professor Emilio Picasso era stato a lungo direttore del CERN di Ginevra. Ricordo che adesso il direttore del CERN di Ginevra c'è una donna italiana, una fisica, la professoressa Giannotti, che è pure stata riconfermata. Comunque sto divagando. Mi recai dal direttore, il quale mi disse, mi spiegò, che lui non poteva intervenire in questo genere di questioni. Ma mi disse anche, vada e combatta. La Natalina restò. Ma di queste parole, vada e combatta. Mi sono spesso ricordata nella mia lunga carriera. E con queste parole, con questa esortazione a dare il meglio di se stessi per le cause in cui crediamo, voglio concludere. Cari normalisti e normalisti, fate tesoro dell'eccellenza, dell'onestà intellettuale, dell'impegno e dell'entusiasmo che potete imparare alla scuola normale. E soprattutto, ora e sempre, date il massimo, come vi è stato insegnato qui. Non ve ne pentirete. Grazie a tutti per l'attenzione. Adesso, per la seconda parte della cerimonia, interviene il professor Flavio Pergonzi, professore di storia dell'arte contemporanea della scuola, per introdurre il rinnovato percorso espositivo di arte contemporanea in collaborazione tra la scuola normale e il centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. Buonasera a tutti. Vi rubo dieci minuti, non di più, giuro. Poi andiamo a vedere qualche opera nei corridoi e nelle sale della scuola. Allora, io partivo per questa breve riflessione che condurrà poi alla visita da un fatto che spero che non vi sia sfuggito oggi che siete in questo luogo. Sennò altro perché prima di salire le scale, se avete voltato allo sguardo a destra, avete incontrato una Hilfocrom del 2003, della serie Monats, di un importante pittore e artista brasiliano che vive a New York, Vic Muniz. E magari prima di entrare in questa stanza avete visto di scorcio un grande trittico landscape dipinto a tempera sul lino da un pittore che ha vinto da poco, italiano, che ha vinto da poco il premio Osvaldo Licini. E se vi siete spinti nel corridore delle direzioni vi avrà colpito la grande installazione ambientale anni 90 dei coniugi Poirier, quella con il diario estivo di un'estate passata in Umbria a contatto con gli affreschi e con le sostanze naturali dei fiori. Questa specie, come dire, di tavola delle memorie, la tavola degli umori delle cose. In quest'aula vi osserva retroilluminata e massacrata, devo dire, dal faro che ci, come dire, illumina noi una volta celeste di Eugenio Miccini. E' una serigrafia del 1972 di un contenuto e di una tensione ideale e politica che ci paiono lontani come l'alto medioevo. Cosa ci fanno questi lavori? Ne ho ricordati solo alcuni, sono una ventina, nelle sale del vasariano Palazzo della Carovana. Grazie a una provvida iniziativa che ha visto collaborare dal 2012 la Scuola Normale, il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, un numero importante e di qualità rilevante di opere della collezione di uno dei maggiori musei italiani dedicate all'arte contemporanea. Forse per quella zona cronologica, diciamo 1990-2010, il maggior museo italiano d'arte contemporanea, una selezione viene esposta in questo palazzo. Ogni due anni una parte di queste opere viene sostituita e siamo ormai al quarto cambio, quindi al quinto giro. Il ringraziamento va prima di tutto al direttore Fabio Beltram che nel 2012 ha promosso l'iniziativa, ai successivi direttori della Scuola che l'hanno voluta continuare, soprattutto alla generosissima collaborazione del Consiglio d'Amministrazione, della Direzione e dei funzionari del Centro Luigi Pecci di Prato. Oggi Stefano Pezzato, che è il conservatore delle collezioni, non è potuto intervenire per impegni relativi al museo, che oggi è in una delicata fase di passaggio, ma la sua attenta, vorrebbe dire amorevole, cura per le opere, per la sensibilità che ha nei confronti proprio della conservazione, del significato che hanno, ci hanno sempre accompagnati e confortati in questo decennio. Stefano mi ha raccomandato di ricordare il sostegno dell'Associazione degli Amici della Scuola Normale, senza il quale l'iniziativa non sarebbe stata possibile e mi fa piacere che questa iniziativa da loro sostenuta riguardi, sostenuta agli amici della normale, riguardi un linguaggio, quello delle arti visive, che rappresenta davvero un'altra lingua degli italiani, insieme a quella delle parole, dei numeri e della musica. Quando penso alla funzione con cui sono chiamati ad assolvere queste opere in questo luogo, mi viene spontaneo provare a fare una macchina indietro, ideale, di qualche generazione, e a pensare a una situazione corrispettiva che però mai prima si era verificata. Che so, ragazzi e professori della normale di Giovanni Gentile, alle prese, sui muri, con opere degli artisti di Area 900, magari quelli raccolti intorno alle riviste bottaiane, le arti, o primato, da Caramo, Randi, da Manzù, a Marino Marini, o altri ragazzi della normale di Russo, a fare i conti con il neocubismo e con le opere delle diatriba tra astrazione e figurazione che ha accompagnato il nostro secondo dopoguerra. O magari ancora i ragazzi della normale di Bernardini, a misurarsi con le opere della nuova figurazione, e magari anche con qualche esempio di arte processuale o cinetica degli anni Sessanta. E mi viene, se penso, come dire, a queste tre fantasie cronologiche, sono cose che non sono mai avvenute, di fatto, mi viene da pormi questa domanda. Se esiste un dialogo che oggi intuiamo ancora possibile, anzi, un dialogo del tutto naturale, tra i valori di un umanesimo critico, drammaticamente testimoniale, come quello della fine degli anni Trenta, o quelli solidamente fondati su uno sguardo di severa rilettura storica, come quello degli anni Cinquanta, o quelli pronti a mettere in discussione i propri fondamenti metodologici, e ad aprirsi alle nuove contaminazioni, quelle degli anni Sessanta e Settanta, e mettere insieme quei momenti e quei valori, e i valori visivi che gli artisti coevi facevano transitare nelle loro opere. Un dialogo che retrospettivamente, Trenta, Cinquanta, Sessanta e Settanta, ci appare così naturale. Davvero, questo dialogo rischia di interrompersi oggi, perché i linguaggi dell'arte si sono complicati al punto da confinare queste opere in un diffuso sentire, allo statuto di segnali quasi autoreferenziali all'interno del sistema delle arti, che limita, quindi, l'arte contemporanea a una specie di ideoletto per pochi. Che cosa vi è significato, invece di porsi la domanda decisiva, a che cosa significa, è una divisione che Giulio Carlo Argan faceva quando cercava di spiegare che cos'era l'arte astratta negli anni Cinquanta, o al punto di riconoscere alle opere solo una specie di specialissima funzione decorativa, che le confina uno speciale arredo, per spazi illustri che vengono così risignificati. davvero quel sapere condiviso che si misura in aule come queste, aule di paziente e sperimentazione scientifica, di messa alla prova delle idee attraverso il filtro della cultura storica, di confronto con le metodologie più avanzate di interrogazione del reale, davvero questo sapere condiviso fa fatica a considerare le opere realizzate dai migliori artisti di oggi come qualcosa con cui è possibile confrontarsi e da dove nasce questa alterità, questa difficoltà. Io provo ad aprire un corollario a questo punto, vi rubo davvero tre minuti, ma mi pare fondamentale per spiegare quello che c'è appeso fuori. Chi oggi visita un luogo che ospita opere, diciamo, post-1970, post il decennio della trasformazione decisiva, dal 70 all'80, deve mettere in conto alcuni patti che sarà bene a provare a mettere di fila l'uno con l'altro. Il primo è semplicissimo, ma vale la pena ricordarlo. Che l'opera d'arte contemporanea, cioè non rimanda più ad una verità visiva altra. L'opera rimanda inequivocabilmente a se stessa. È la fine di quella piramide visiva prospettica nella quale si fingeva che il muro, la tavola o la tela non esistessero. E si fingeva di osservare come a teatro uno spettacolo di cui andava misurata l'abilità tecnica o l'efficacia espressiva del regista. Ecco, quella stagione è finita. Questo bisogna darlo per scontato. Quando si vede lo spessore fisico delle opere, la datità proprio, come dire, materiale dell'opera stessa. Richiamare subito questa oggettualità intrinseca dell'opera contemporanea ci libera da molti equivoci e ci fa capire lo statuto di molte di queste cose. Il secondo patto da fare è più difficile. Da fare e da accettare è più difficile. E su questo patto davvero si gioca molta dell'alterità, ma anche molta della ricchezza, magari disordinata, della ricerca artistica odierna. E il suo sganciarsi dalle metodologie interpretative tipiche della storia dell'arte, diciamo, fino al 1960-70. C'è nelle opere del presente e del recentissimo passato un impulso espressivo che non è più primariamente visivo, ma forse piuttosto allegorico. In questa operazione entrano in gioco saperi e riferimenti che possono essere assai lontani dal tradizionale mestiere dell'artista visivo e che hanno portato l'artista a occupare due estremi fin lì intentati. Da un lato la condizione identitaria del proprio essere artista. Che cosa vuol dire esserlo? Indipendentemente da che cosa vuol dire dialogare con chi si misura con l'opera d'arte. E all'opposto, e forse questo è il caso, come dire, dalla condizione postmoderna dopo il 1980, all'opposto lo sconfinamento a un'attitudine giudicante, morale, una volontà, insomma, di intervento nel cuore vivo del proprio tempo. Di cui le interferenze con temi scientifici, ecologici, morali, politici, identitari, in senso storico-antropologico, in un campo esteso che va dalla corporalità dell'artista all'ecumene mondo. Che la formazione di molti degli artisti in gioco negli spazi che vediamo qui non sia stata umanistica e scientifica non più confinata nei luoghi di formazione degli artisti che sono le accademie di belle arti, qualcosa ci deve dire. Il terzo patto ad accettare è di importanza apparentemente minore, ma va messo in conto. Che cioè il tema della morte dell'arte è esistito e continua ad esistere, e continua ad agire come convitato di pietra, in qualche modo, nelle riflessioni degli artisti più accorti. Dopo la perdita della diretta funzionalità religiosa, politica e civile dell'opera d'arte, dopo soprattutto la messa in crisi di quell'atteggiamento post-romantico e avanguardista che vedeva nello spazio dell'opera il luogo in cui veniva teatralizzato il combattimento tra l'artista e il figurato, cioè quello che l'artista vedeva attraverso gli occhi, di fronte alla scelta di lavorare artisticamente si è spalancato un abisso. I modi per riempirlo dovevano fare i conti con la condizione stessa dell'artista nella società. Erosi gli spazi della sovversione, della resistenza, dell'utopia, assimilati in questo modo così generale, nel Novecento, così avanzato, davvero sembrava che ci fosse una sorta di afasia. Ma gli artisti della generazione, di chi aveva trent'anni nell'Ottanta, e saranno molti degli artisti che vedremo appesi, già artisti nati, diciamo, dal 60 al 68, che sono affacciati dopo il decennio terribile, dopo il decennio dei 70, e quelli delle generazioni successive hanno continuato in queste condizioni a produrre opere e davvero proprio dalle opere, dall'osservazione delle opere, converrà ripartire. Basta camminare tra le sale di un museo con opere dell'ultimo trentennio o quarantennio, per convincersi che stanno davvero mali in piedi quelle teorie che vedono l'opera d'arte come un tipo di immagine tra le altre, quelle del cinema, delle televisioni, della moltiplicazione delle immagini, da internet ai telefonini cellulari. Il motivo è semplice, perché le opere sono oggetti, sono cose, cose che hanno una loro fisicità, sono delicati, sono sempre in umbilico fragile. Basta sbagliarne la collocazione, l'illuminazione, ci abbiamo provato molte volte con la luce, bastava un cambio di 5 gradi di incidenza luminosa e l'opera moriva o viveva. Basta metterle in una relazione impropria tra di loro e lo spettro della banalità, dell'insignificanza si manifesta subito. È il contrario davvero, del saprei farlo anch'io, con cui è stata ammazzata l'avanguardia a partire da Picasso, dalle prime opere cubiste che arrivano in Italia. E accade dunque che quell'equilibrio, quella tensione, che le rende qualcosa di diverso rispetto all'oggetto normalmente percepito, gli oggetti che noi abbiamo sotto il nostro occhio quotidiano, salti immediatamente. perché sono equilibri che trovano il loro compimento quando le materie, i materiali, si fanno di per sé espressivi, quando i cortocircuiti tra i segni e i significati si manifestano nella loro, mi viene da dire tensione, poesia, quella cosa che, come dire, fa fare il salto. Gli artisti sembrano ricordarci che il loro sguardo si carica proprio di tensione visiva. Ecco, la parola giusta è questa parola, tensione, mi sembra la più adatta a descrivere questa condizione. Proprio da questo dato di delicatezza, materiale talvolta, ma forse ancora di più percettiva, e da questa condizione di tensione mi sembra che si possa iniziare a comprendere la funzione che queste opere hanno qui negli spazi della scuola normale. Tensione che prima di tutto ci spinge a problematizzare in un modo inaspettato il rapporto tra il contenitore e le opere, tra il patrimonio storico, ambientale, persino paesaggistico dell'Italia, della storia, con questi nuovi, come dire, acceleratori di percezione che sono le opere d'arte contemporanea. e poi hanno una seconda funzione che a me pare culturalmente la maggiore ed è il motivo per cui insisto che ogni due anni ci sia questo cambio e che vada fatto in determinate direzioni. La funzione cioè che è quella di stimolare interrogativi, di aprire questioni che non siano risolvibili o spiegabili con le risorse dell'argomentazione logica. La funzione è di inquietare, insomma. C'è nelle opere migliori degli artisti del nostro tempo un'ossessione intorno ad uno snodo che mi pare di poter chiamare il punto morto quando noi, come dire, ci accorgiamo che una cosa perde di, sembra perdere di significato e invece viene grazie ad una, come dire, ad una provocazione visiva, ad un innesco visivo viene risemantizzata. Abituati a dare per scontato, almeno percettivamente, perché ormai stabilizzati attraverso la realtà virtuale le interazioni tra noi e da un lato la nostra condizione, condizione corporale di esistenza e di pensiero e dall'altro la realtà che ci circonda. La realtà fatta non soltanto in realtà visiva, l'ho detto prima, di realtà ecologica, di problematica sociale, di senso dell'esistenza nel mondo. Spetta agli artisti, è spettato e continua a spettare agli artisti della postmodernità ricordarci ogni volta che queste interazioni, noi, le cumene, sono instabili, problematiche e che possono essere allegorizzate attraverso visioni che sono epitomi, spesso crudeli, talvolta ironiche, talvolta grandiose, talvolta persino grossolane, non mica un problema, ma sempre visivamente tese del nostro tempo, purché si abbia la pazienza di guardarle le opere e di capire l'intenzione che ne è sottesa attraverso la comprensione dei dispositivi visivi che sono usati dagli artisti. Dunque, agli studenti, ai professori, a chi lavora in normale, a chi ci viene per lavoro, a chi ci viene ospite, a chi visita il Palazzo della Carovana, come capita a chi prima della pandemia entrava a vedere, insomma, gli interni e le opere che erano apprese. Queste opere vogliono significare una testimonianza della cultura del presente e una sfida a misurarsi con la ricchezza dei linguaggi della contemporaneità. C'è l'auspicio, ed è un mio auspicio personale, ma spero che sia l'auspicio di tutti, che questa sfida venga raccolta specialmente dai più giovani. Mi pare che sia un bene che proprio i giovani, impegnati in questi così severi studi umanistici e scientifici che ci sono appena stati ricordati, imparano a misurarsi con questo linguaggio anche talvolta nelle sue manifestazioni più inaspettate e più provocatorie. Grazie. Allora, io ringrazio tutti per aver partecipato oggi a questa cerimonia. Un particolare ringraziamento al Ministro, alla Professoressa Saraceno, a Francesca Biagini per i loro interventi molto coinvolgenti. Siete tutti invitati naturalmente a visitare le ombre di cui ci ha appena parlato Flavio Fergoni. Sono disponibili nei corridoi di scuola e penso che io sia disponibile anche a dare ulteriori spiegazioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.